Bene, ben ritrovati. Possiamo riprendere i lavori del nostro convegno con quest'ultima sessione dedicata al teatro e per non perdere tempo cedo subito la parola a Giuseppina Giuliano che modellerà questa sezione. Prego Giuseppina. Grazie. Io con immenso piacere modero quest'ultima sessione del convegno non perché sia l'ultima ma perché la seconda dedicata al teatro di Ciecov. Vi ricordo solamente che il programma prevede tre interventi, una breve pausa, gli ultimi due interventi e poi la discussione come sempre alla fine. La prima relatrice è Giulia Batellica, ricercatrice dell'Università di Torino che si occupa principalmente di letteratura russa di fine ottocento e inizio novecento ma anche di problemi traduttivi se non sbaglio anche proprio relativi al testo teatrale. Torniamo su Ziovania perché il titolo dell'intervento è Ziovania di Krista Sekel, liberamente tratto da Ciecov. Grazie, mi sentite? Sì? Sì. Bene, grazie. Io ringrazio naturalmente Giulia Marcucci, Manuel Vostiero, Donatella Di Leo per questo bellissimo convegno. Ringrazio per aver accolto il mio contributo e naturalmente ringrazio molto gli interpreti per il loro lavoro preziosissimo e di eccellente livello. Provo a condividere lo schermo. Io non vedo ancora nulla. Infatti non riesco a... Giulia, in basso c'è un tastino condividi schermo, di solito è illuminato di verde. Sto spiacciando, sì. Ok, perfetto. Però non mi compare il mio schermo. Credo che devo condividere solamente il PowerPoint. Non è possibile condividere lo schermo intero. Sì, infatti è un PowerPoint, però... Suggerisco di aprirlo e poi iniziare la condivisione e in questo modo Zoom lo legge. Va bene, allora faccio così. Oggi non abbiamo molto fortuna. con le condivisioni. No, ma forse ce la sto facendo. Ecco, io adesso... Sì, sì, adesso si vede. Grazie, scusate. No, no, figura, ti prego. Allora, alla prima rappresentazione italiana del dramma cecoviano Zio Giovanni del 3 maggio 1922 a Firenze, al Teatro Niccolini, messo in scena dalla compagnia di Uberto Palmarini, dovevano seguirne nel corso di un intero secolo numerose altre. Tra le più note nella seconda metà del Novecento... e adesso non scorre... Tra le più note nella seconda metà del Novecento ricordiamo, per esempio, le regie di Giulio Bosetti, di Mario Missiroli, Giancarlo Sepa, Giuseppe Patroni Griffi, Gabriele Lavia, Peter Stein, Federico Chiezzi, Marco Bellocchio, e naturalmente la bellissima realizzazione di Vinicio Marchioni. Ecco, quindi, con i drammi Chayka, Trissi Strig e Vishnobissat, Chia D'Avania, in virtù della sua continua e assidua presenza sulla scena teatrale italiana e dell'attenzione da parte dell'editoria di cui il testo è oggetto, occupa un posto importante nel repertorio teatrale italiano, oltre che, verosimilmente, nel canone teatrale occidentale, nonostante le osservazioni di Harold Bloom, il quale esclude l'opera cecoviana dal canone occidentale a favore della produzione teatrale di Ibsen. Appare dunque evidente la natura di testo classico della pièce, se, come afferma Hans-Probert Jaws, richiamando la definizione gadameriana classico e ciò che si conserva perché significa se stesso, osserva che l'opera classica ci risponde e ci dice qualcosa soltanto se noi prendiamo a interrogarla e che l'arte raggiunge la pienezza del suo significato solo attraverso il suo effetto storico. Il testo classico è dunque oggetto di un perpetuo processo di rilettura, reinterpretazione e risignificazione, atti che concorrono a rinnovare le modalità e i percorsi della ricezione, un rinnovamento che deve di necessità scegliere e abbreviare, ma che con questa operazione necessaria riesce ad animare e ringiovanire il passato. Jaws riesamina il concetto di attualizzazione, riaffermandone il valore funzionale e tuttavia rinominandolo con il termine ringiovanimento. Si potrebbe forse ipotizzare un tale intento nella rilettura teatrale di Diagia Bania proposta dalla regista ungherese Krista Zekeli e messa in scena dalla Compagnia del Teatro Stabile di Torino dalle 7 al 26 gennaio 2020 al Teatro Carignano della stessa città. I quattro atti della versione di Krista Zekeli si svolgono tutti all'interno di una struttura di vetro trasparente a forma di parallelepipedo, assimilabile a una veranda facciata su un podere e simbolicamente identificabile in una grande serra. Al suo interno un tavolo con alcune sedie e un frigorifero, sulla sommità del quale si intravedono un bollitore, una bottiglia, dei piatti e alcuni bicchieri. Le note di regia riportate da Zekeli suggeriscono innanzitutto quattro cambi di scena, ognuna precisamente caratterizzata da alcuni oggetti. Il primo atto è ambientato nel giardino, nel viale, all'ombra di un vecchio chioppo, una tavola è apparecchiata per il tè e le visibili al samavar. Vi sono panchine, su una delle quali è appoggiata una chitarra e sedie. Non lontano dal tavolo vi è un'altalena. Nel secondo atto l'azione si svolge nella sala da pranzo dell'abitazione di Serebriacopi, mentre la scenografia dell'atto terzo riproduce il salotto, nel quale si vedono tre porte, una a destra, una a sinistra e una al centro. Dettagliata è infine l'ambientazione del quarto atto. Nella camera da letto di Ivan Pitrovic, utilizzato anche come ufficio della proprietà, compaiono un letto, un grande tavolo sistemato accanto alla finestra, cosparso di libri contabili e carte di ogni genere, una scrivania degli armadetti e una bilancia. Vi è anche un tavolo di piccole dimensioni, riservato ad Astroff, con l'occorrente per il disegno e i colori, e una grande cartella per riporvi i disegni. Alla parete è appesa una carta dell'Africa. Inoltre è visibile una gabbia con uno storno. Completa l'arredamento della stanza, un enorme divano foderato di tela cerata. A sinistra, una prima porta con luce ad altre stanze, a destra una seconda porta da nell'anticamera. In terra, accanto alla porta di destra, è adagiata una stuoglia per i contadini che entrando non sforchino il pavimento. Se ormai remota è l'epoca in cui era l'autore stesso a incarnare la figura del regista del dramma e occuparsi dello spettacolo, a leggere il testo agli attori, a spiegarlo, non dirà da scegliere la truppa e a identificare gli attori adatti a recitare le parti. E se, nella nostra contemporaneità, soprattutto a partire dalla seconda metà del Novecento, sono del tutto consuete le interpretazioni registiche italiane connotate da una lettura marcatamente soggettiva della realizzazione scenica, ne sono esempi le regie di Giorgio Streller per Il Giardino dei Ciliegi o di Massimo Castri per Tre Sorelle o Carmelo Rifici per Il Gabbiano, le diverse rappresentazioni di Ziovania parrebbero aver consolidato una sorta di tradizione caratterizzata da una lettura quasi filologica delle note di regia cecoviane. Ne sono esempi le regie di Missiroli, Patroni Griffi, Peter Stein, Marco Bellocchio. E' importante ricordare anche l'interpretazione registrica di Dionicio Marchioni del 2018, che nel titolo 1 Ziovania annuncia gli spostamenti scenografici e testuali del modello originale. E tuttavia l'analisi del copione, frutto della collaborazione fra la stessa regista Christa Selechi e Armin Selechi-Zabo a rendere evidenti i tratti distintivi della rilettura del dramma proposta dalla regista ungherese, considerando innanzitutto la peculiare e complessa natura del testo teatrale utilizzato. Si tratta della versione e dell'adattamento italiani di un copione originariamente scritto in ungherese, esito, a sua volta, del processo di traduzione e adattamento della fonte primaria, l'opera Gia Giavania dello scrittore e drammaturgo Anton Pavlovich Cicceca. Ed è proprio il processo ermeneutico di rivettura, determinato dai successivi atti di traduzione, a suggerire una riflessione analitica intorno al testo cecoviano nella proposta di Christa Selechi, in un'ottica comparatistica, quindi con un costante richiamo alla fonte originale rispetto alla quale il copione presenta reiterati interventi di condensazione e numerose articolate azioni di adattamento. All'interno di numerose battute risultano eliminate intere frasi o interi capoversi. Nell'atto secondo non viene per esempio riportato il monologo pronunciato da Sonia nel momento di attesa tra l'uscita di scena di Astrof e l'ingresso di Eliana. Nello stesso atto Sonia non rivolge a Eliana la cruciala domanda indagatrice e la sua confessione in merito all'infatuazione per Astrof è notevolmente ridotta. Nell'atto quarto lo scambio di battute tra Eliana e Astrof è una sintesi dell'originale cecoviano nel quale Eliana dichiara di trovare Astrof interessante e originale e legittimando se stessa con le parole per poi concludere il suo discorso proponendo ad Astrof una stretta di mano suggellando il sentimento di amicizia al solo possibile che li lega. Nella versione di Christa Sefeli la replica di Eliana è notevolmente più concisa non esprime il proprio giudizio sulla persona di Astrof non gli propone di congedarsi da amici e si limita ad ammettere dopo aver confessato come nell'originale cecoviano di essersi invaguita di lui le seguenti parole penso di essermi innamorata di te un po' ricordami così poderosa è la strategia di adattamento cui il testo cecoviano è stato sottoposto con esiti articolati e interessanti il primo e più evidente consiste nella trasposizione cronologica dell'intreccio collocato non nell'ultimo scorcio del XIX secolo bensì nella nostra contemporaneità ne sono evidenti indizi l'allestimento scenico nel suo insieme come si è accennato la struttura che occupa il palcoscenico lascia intravedere un frigorifero i costumi indossati dagli attori e gli oggetti di scena sono essenziali in realtà gli oggetti spiccano tuttavia il computer portatile di Astrof e il cestino di plastica per la spazzatura al personaggio di Alexander Serebbiacot viene attribuito una diversa identità professionale e culturale il cecoviano professore a riposo diviene un regista incompreso e fallito il personaggio di Zeovania è indicato nel dramma originario come Vainitsky mentre per Krista Zekeli è semplicemente Vania ed è importante precisare che nello spettacolo rappresentato al teatro Katona di Budapest il 29 e il 30 gennaio 2020 il titolo della pièce era Vania indicando appunto in questa formulazione l'intento di proporre una rappresentazione non compiutamente aderente al dramma originario numerosi elementi rappresentativi della cultura materiale della Russia di fino a 800 o della cultura russa in generale non vengono nominati come il samavar il cavallo questi ultimi sostituiti dall'automobile mentre l'infuso di tiglio sostituito dalla cioccolata i toponimi Pietroburgo, Kharkov, Kursk vengono eliminati dal testo in un caso il toponimo Kharkov è sostituito con New York nel lato primo Maria Vassilievne annuncia di aver ricevuto da Kharkov non un opuscolo di Pavel Aleksandrovich anzi scusate annuncia di aver ricevuto da New York non un opuscolo di Pavel Aleksandrovich bensì il nuovo libro di Judith Butler The Senses of the Subject sono analogamente rimosse riferimenti a scrittori e ad artisti russi sostituiti con nomi di scrittori e artisti più delle volte non russi così Serebriakov chiede a Eliana di cercare per lui non il volume di poesie di Konstantin Batushka bensì il trattato la filosofia nell'arte di Hegel nell'atto terzo Vani esprime il proprio rammarico per l'impossibilità di esprimere il proprio talento e la propria bassa intelligenza quindi di diventare non un nuovo Schopenhauer o un nuovo Dostoevsky bensì un nuovo Picasso o un Thomas Mann mentre nell'atto secondo la podagra di Turghien è poi diventata Angina Pectoris si trasforma nei dolori articolari di Tarkovsky preludio al cancro ai polmoni che colpì il regista russo cospicue le alterazioni del registro linguistico in particolare nell'elocchio il zio Vania e di Astrof i quali non di rado ricorrono a espressioni volgari nell'atto primo nell'atto primo Vania definisce essere ebreaco un puttaniere mentre per Vainitsky è un Don Juan e ancora Vania nell'atto secondo a replicare l'affermazione di Astrof una donna può essere amica di un uomo solo in quest'ordine prima conoscente poi amante poi amica con la brutale domanda che cazzo dici in luogo del commento Pashlyacheskaya per la Sofia Astrof nell'atto quarto commenta l'osservazione di Vania il mondo è andato fuori di testa con l'espressione che è stronzata mentre il testo cecoviano riporta le parole nu i grupa d'altronde anche Ieliena trascende nel turpilocchio quando nell'atto terzo esasperata la provocatoria insinuazione di Vania no non una strega una sirena lascia che emerga la tua natura da sirena e buttati fra le braccia del demone dei boschi buttati a capofitto nella giungla e io e Ieliena ce ne faremo una ragione con queste parole fan culo basta fare lo stronzo sideralmente lontane per lo stato d'animo e l'atteggiamento interiore che esse esprimono dalla battuta originale Astapse minyat pakoe kaketa gestoka una ulteriore differenza di registro si manifesta nell'allocuzione osserviamo che gli allocutivi di cortesia indicati da ceco divengono nella variante di Krista a secoli allocutivi naturali così neutralizzando non soltanto sul piano formale la distanza relazionale tra alcuni personaggi a differenza di quanto avviene nel testo cecoviano nella nuova versione Sonia e Astro così come Ieliena e Astro e Ieliena e Vania interagiscono utilizzando l'allocutivo confidenziale tu se infine nel testo originale Maria Vasilievna si rivolge al figlio Ivan chiamandolo Jean nella versione della regista ungherese Jean diventa Vania e si elimina così la sottile allusione alle ambizioni della classe della proprietà terriera ormai in decilino e tuttavia anacronisticamente ancorata a modelli comportamentali in pronta francese ma la più incisiva forse addirittura appariscente azione di adattamento definitivamente orientata verso una ricontestualizzazione delocalizzante e soprattutto marcatamente attualizzata si esprime nella radicale riscrittura della tirata pronunciata da Astrof nell'atto terzo l'originario circoscritto riferimento alle trasformazioni subite dall'ambiente naturale del distretto cui appartiene la tenuta si trasforma nel catastrofico quadro delle imminenti conseguenze del cambiamento climatico l'Astrof cecoviano mostra a Eien alcune carte che raffigurano con tonalità cromatiche via via più pallide la inesorabile e progressiva deforestazione dell'area denunciano la scomparsa di alci cine fagiani dei casolari delle cappelle dei mulini attestando il persistere della generale situazione di degrado determinato dalla mancanza di strade di ferrovie dalla piaga della miseria delle carestie delle epidemie di tifoli di ferite soprattutto da un'endemica ignoranza alimentata dall'indolenza dalla irresponsabilità e dalla disperazione nella rilettura di Christa Seteli il discorso di Astrof si prolunga notevolmente si estende fino a sfiorare il futuro della pianeta Terra le correnti calde del mare sono due volte più frequenti due volte più calde due volte più resistenti di come lo erano trent'anni fa e l'ottantacinque a novanta per cento di questo fenomeno è causato dall'uomo per colpa del gas R il livello del mare si è alzato di 16 centimetri e continua ad aumentare per questo la maggior parte dei paesi insulari sarà invisibile molte città sul mare spariranno Malta ad esempio perderà il 24% del suo territorio la Grecia al 16% l'acqua salata si infiltrerà nel suolo e si mescolerà all'acqua dolce l'aridità metterà a rischio l'agricoltura costiera e le fonti di acqua potabile in tutta Europa e come se non bastasse l'effetto negativo colpisce anche i fenomeni atmosferici e il nigno e la nigna diventano sempre più estremi fanno aumentare i periodi di siccità e il numero di numifragi monsonici in tutto il mondo l'analisi della pièce realizzata da Krista Zekeli la sua rilettura del dramma inducono alcuni interrogativi e alcune osservazioni un primo interrogativo riguarda l'autorialità cecoviana gli elementi trasposti nella nuova versione si identificano essenzialmente nella trama e nell'intreccio del testo teatrale in una parziale rappresentazione delle interazioni tra i personaggi l'atmosfera della pièce cito il complesso estruggente paesaggio delle stagioni del tempo dell'ora dell'ambiente cito da Roberto Alonge dal saggio il teatro dei registi quindi la natura il realismo interiore dei personaggi la loro complessa caratterizzazione apparente contradditorietà cito a questo punto invece Samislavski dalla mia vita nell'arte tutto sta in ciò che i personaggi sentono soffrono sperano non in ciò che fanno decidono dichiarano fin in citazione il contesto culturale con i temi e i motivi che lo identificano e lo caratterizzano non trovano espressione alcuna nella rielaborazione di questi secoli il testo nuovo che ne deriva pare l'esito di un procedimento marcatamente naturalizzante o addomesticante coincidente con le attese del pubblico destinatario indiscutibile il considerevole successo di pubblico e le attestazioni elogiative tributate da numerose recensioni pubblicate su periodici quotidiani siti di informazione culturale e blog una utile riflessione in tale prospettiva potrebbe allora forse conseguire dai principi ispirativi della scopos teorie formulata da Katarina Reiss e Hans i quali identificano nello scopo dell'atto traduttivo l'autentico obiettivo della teoria delle tre leggi fondamentali dello scopo della coerenza e della fedeltà la prima è determinante in quanto non subordinata a nessun'altra il testo è funzionale al contesto d'uso ai destinatari e ai fruitori al senso al significato che essi le attribuiranno il problema dunque per dirla con Christian B. non è quello della ricerca e dell'attuazione di un senso bensì della ricerca del senso attraverso la messa in scena attraverso il testo classico in quanto pretesto e materiale un secondo quesito riguarda l'autorialità della rappresentazione teatrale costituita dal regista dallo scenografo dallo sceneggiatore dagli attori e rinvia al già ricordato Giauss il quale commentando il pensiero di Gardner si domanda se davvero tale autorialità elabora ciò che la tradizione mi ripresenta consapevolmente sviluppando la tensione fra testo e attualità e con questa domanda mi congedo e vi ringrazio per l'attenzione grazie Giulia passiamo allora alla seconda relazione di Alessio Rischia che è dottorando di ricerca in studi comparati lingue letterature e arti presso l'università di Roma Torvergata e lui si occupa di letteratura francese e infatti ci parlerà degli Echi di Chekhov nel teatro di Yasmina Reza buonasera a tutte buonasera a tutti mi sentite? sì sì perfetto nel frattempo che condivido lo schermo ringrazio il comitato organizzatore il comitato scientifico e gli interpreti vado su file in basso condividere lo schermo dovrebbe esserci in verde e dovrebbe apparire il file aperto ecco qua ok però questa è la lavagna credo e chiamo sempre la lavagna è perché è la prima e conviene togliere la condivisione credo sì però va a riaprire la presentazione a tenerla aperta mentre condividi dovrebbe funzionare così ok la vedete? perfetto perfetto grazie mille allora allora innanzitutto buonasera a tutti buonasera a tutte e quindi sono appunto un francesista non sono uno specializzato in Chekhov ovviamente ma oggi vi porterò gli Echi di Chekhov nel teatro di Yasmina Resa scrittrice contemporanea francese oggetto di studi del mio dottorato di ricerca ok allora chi è Yasmina Resa? attualmente è insieme a Molière la drammaturga più rappresentata al mondo nei teatri di tutto il mondo in un'intervista a Philippe Biglière alla domanda quale fosse il suo grande maestro letterario lei risponde le gran maître c'è Chekhov Hélène Jacomar professoressa dell'Université Western Australia attualmente una delle più grandi studiose di Yasmina Resa in un volume a lei dedicato scrive qui potete vedere le pièce teatrali di Yasmina Resa alcune di queste sono state tradotte in italiano altre no questo perché in Italia abbiamo avuto un passaggio da una casa editrice ad un'altra attualmente la traduzione è affidata da Delphi e lo stesso vale anche per il russo infatti conversazione non è stata ancora tradotta in italiano ma è stato tradotto in russo quando Yasmina Resa scrive la prima pièce teatrale ha appena 27-28 anni e la pièce fa un ottimo successo in Francia la seconda pièce invece La traversée dell'iver la traversata dell'inverno è certamente la pièce teatrale più cecoviana di tutte non solo dal punto di vista della forma ma anche dal punto di vista dell'atmosfera e del clima morale che si respira all'interno di quest'opera infine Art è la pièce che consacra Yasmina Resa a livello internazionale pièce che è stata rappresentata da Mosca fino a New York a destra potete vedere infatti un fotogramma infine una breve postilla per per l'edio du carnage il dio del massacro dal quale è stato tratto un film di Roman Polanski con Christophe Wolff Jodie Foster e Kate Weaslet Anne-Marie Laboté purtroppo ha avuto sfortunatamente solo due rappresentazioni a Francoforte perché come sappiamo è scoppiata poi la pandemia questi scrittrici anche di romanzi e di racconti brevi come Amber Clader racconto breve autobiografico l'ultimo romanzo è uscito quest'anno ed è Serge ora la scrittura di Resa si caratterizza per una disposizione ostinata a evitare la tragedia così scrive Denis Guenou professore di teatro alla Sorbonne Université la particolarità delle pièce di Resa è questa loro sconcertante dedrammatizzazione la crisi si annuncia si costruisce in un crescendo e infine all'apice della tensione drammatica quando il lettore quando lo spettatore attende l'epilogo tragico ecco che la crisi viene sciolta senza preavviso è una tecnica brutalmente anti-dramatique ci dice Guenou Resa utilizza tre stratagemmi per evitare il tragico attraverso l'irrompere del grottesco e quindi una scena una battuta ironica inaspettata dissolve la crisi nel vuoto oppure quando la tensione cresce tra due personaggi ne esplode un terzo e anche in questo caso l'epilogo tragico che ci si aspettava viene evitato oppure attraverso quella che Guenou definisce la strategia de Poirot la strategia de Porri ironicamente cesoie filtri del caffè cipolle vestiti riviste e fotografie sono innumerevoli gli oggetti e le minuziose banalità del quotidiano sulle quali Resa si sofferma con ostinata indolenza quel tanto da spezzare l'ingranaggio del tragico ad esempio in conversazione a Prenant et Ramon la tensione drammatica subisce una brusca interruzione quando tra i personaggi si apre un appassionante dibattito sulla ricetta dello stufato tuttavia Resa non è antitragica vuole anzi far entrare il tragico all'interno dello spazio domestico della vita quotidiana Auerbach scrive in alcune meravigliose pagine di Mimesis che la tragedia classica quella greca e quella francese abitano i luoghi delle divinità dell'alta aristocrazia narrano le gesta di sovrani di principesse di grandi eroi la tragedia classica non abita certo lo spazio domestico della vita quotidiana quella che Hegel o che Lukas definirebbe come la prosa del reale insomma tutti quegli elementi prosaici che sostanziano il tessuto della vita quotidiana proliferano con tanta impudenza laddove la tragedia aveva fatto di tutto per sopprimerli resare un peco con i limiti e confini imposti dalla visione tragica in una tragedia non si mangia se non dei cadaveri o i propri simili come nelle baccanti di Euripide ma il cibo nella sua dimensione ordinaria è proscritto così come gli oggetti vestiti e tutte le attività corporali elementari resa vuole l'ordinario ciò che Bakhtin definì il basso corporeo le malattie gli organi le produzioni del corpo elementi tipici del comico popolare ora quindi i drammi di Yasmina Resa non possono essere tecnicamente classificate come tragedie a causa di questo suo atteggiamento a evitare la tragedia a procrastinare la tragedia e tuttavia ci risulta semplicistico anche classificarle come commedie e questo perché in tutti i drammi di Yasmina Resa si ha la sensazione di una tragedia incombente come un fantasma che aleggia nell'atmosfera dell'opera qui ho messo anche una piccola citazione di Angelo Maria Ripellino Chekhov accresce la sorditezza della vita ordinaria con riferimenti continui a cibi e a bevande come abbiamo visto appunto nella strategie de Poirot è un alimento questo essenziale nel teatro di Yasmina Resa Teatro della parole non dell'action ci dice Genou vi porto il caso dell'homme du hasard l'uomo del caso pièce che poggia interamente sull'intreccio di due monologhi interiori ci troviamo all'interno del vagone di un treno ci sono due personaggi lui è uno scrittore famoso lei è una sua ammiratrice ma solo alla fine trova il coraggio di parlarsi ora Resa ha avuto non poche difficoltà a far rappresentare questa pièce che verrà rappresentata un anno dopo la sua scrittura questo perché era una pièce è una pièce totalmente priva di azione durante tutto tutto tutta la rappresentazione noi osserviamo due attori seduti su un vagone di un treno e seguiamo i loro pensieri tant'è che i registi la definivano troppo antiteatrale per essere rappresentata i personaggi di Resa alla maniera di quelli di Chekhov sembrano non provare alcuna vera necessità di dire e di agire irrimediabilmente soffocati in un'atmosfera generale di lassismo di abulia la trama dei dialoghi è densa di aneddoti e di digressioni si sviluppa per frammenti i personaggi ora si interrompono ora riprendono passano da un discorso all'altro ora lo lasciano in sospeso di tutto pur di riempire del vuoto del silenzio la traversia dell'hiver abbiamo già detto è forse la pièce più cecoviana è un altro esempio di antiteatro titolo cecoviano è stato fatto notare da Hélène Jacomar che annuncia un'ambiguità è un passaggio durante l'inverno un passaggio da una stagione all'altra o una traversata nel deserto una sorta di esilio pièce ambientata in un hotel tra le montagne svizzere all'interno del quale i personaggi trascorrono le loro vacanze estive i personaggi sembrano soffrire di una mancanza di energia vitale che sperano di recuperare attraverso il contatto con la natura che li circonda anche da questo punto di vista questa pièce ricorda la montagna incantata la montagna magica di Thomas Mann non sono in questa pièce particolarmente presente gli oggetti dell'ordinario è presente invece l'air l'aria il vento il passaggio le montagne e soprattutto la musica questi elementi sospendono la drammatizzazione interrompendo bruscamente i dialoghi sgonfiando quindi la tensione drammatica ricordiamoci la strategie de Poirot c'è teatro ossia antiteatral che possibile tutto il musical si adegage de se de se lanci min de se silenz sa composizione drammatica è fondamentalmente musicale ci dice la fit sophie in un celebre saggio del 59 su cekov cercherò di dimostrarvi anche quanto la musica sia importante all'interno del teatro di jasminare sa ora sia nelle nei drammi che nei romanzi di jasminare sa i dialoghi accentuano l'amarezza della solitudine i personaggi sono monadi che ascoltano di preferenza se stessi ognuno chiuso nei propri pensieri e nei propri dolori non a caso resa insiste regolarmente sull'importanza del silenzio e ancora una volta l'influenza di cekov sul teatro dell'autrice si rivela particolarmente importante un teatro caratterizzato da una quasi totale assenza di azione e quindi del motore drammatico attraverso il quale si generano i dialoghi che a causa di ciò rischiano continuamente di precipitare in monologhi di qui l'abbondanza di pause molto indicativi in questo senso sono gli a parte i personaggi in art i tre personaggi di art infatti di volta in volta rivolgono direttamente al pubblico i loro pensieri creando delle pause nei dialoghi tra di loro e l'importanza della musica non solo la musica è onnipresente in tutti i drammi di jasmine are sa c'è sempre il suono di un violino in lontananza l'irrompere delle note di un pianoforte sulla scena la musica diventa un vero e proprio filo rouge nel racconto breve molto autobiografico Amer Clavier lo vediamo fino al titolo Amer Clavier infatti è una sonata di Beethoven una delle più difficili che il padre pianista della scrittrice nonché del protagonista di questo racconto non riesce più a suonare a causa della vecchiaia e dell'incedere della malattia la musica è importante e si riflette anche nella forma letteraria l'alternanza dei monologhi dei silenzi delle pause dei dialoghi concorre a creare questo spartito musicale ora per meglio riassumere gli elementi in comune tra il teatro di Chekhov e il teatro di Yasmine Are sa ho messo qui tre piccole citazioni sul teatro di Chekhov scrive Stanislaski che le opere di Chekhov sono ricchissime di azione ma non di tipo esteriore bensì interiore anche quando sembra che i personaggi non stiano facendo nulla e si sono impegnati in realtà in una complessa azione interiore Angelo Maria Ripellino scrive che il dialogo non è più un mezzo di comprensione ma incollatura di diversi soli luoghi infine Luigi Lunari descrive il teatro di Chekhov come un sistema complesso di monadi ecco questi elementi descrivono perfettamente anche il teatro di Yasmina Rezat ora naturalmente ci sono delle differenze tra Chekhov e Rezat ma prima di analizzare le differenze facciamo un piccolo passo indietro che mi sono tenuto proprio per la fine quando Yasmina Rezat scrive le prime due pieze Conversazione apprenante romant e la traversée dell'hiver è una donna giovane sulla trentina d'anni e già i primi critici letterari le fanno notare queste analogie con il teatro di Chekhov e le chiedono quindi se si fosse ispirata al maestro russo ebbene all'epoca Yasmina Rezat non aveva ancora mai letto Chekhov quindi corre si precipita a leggere le pièce e i romanzi e rimane folgorata tutt'oggi Yasmina Rezat sente di avere delle affinità elettive con il maestro russo e infatti non è un caso se nel 2017 lei dirà le grand maître se è Chekhov ritornando quindi alle differenze tra Chekhov e Rezat cerchiamo anche di capire quale sia il nucleo essenziale del teatro dell'universo letterario di Yasmina Rezat teatro che si modella sullo stile della conversazione i personaggi appartengono alla borghesia medio alta lavorano generalmente in ambienti scientifici o umanistici e si esprimono con un vocabolario spesso ricercato a volte anche tecnico che testimonia un certo gusto per la ricerca di un lessico preciso da parte della scrittrice l'appartenenza ad una classe sociale in alcuni casi piuttosto alta la si percepisce anche nei rapporti umani le savoir vivre si rivela spesso problematico ci dice Bouchetard la riflessione sul linguaggio sul ruolo della parola e sull'impossibilità della comunicazione attraversa tutta l'opera di Reza e tuttavia la questione che affronta la scrittrice non è tanto il problema dell'incomunicabilità quanto l'incapacità stessa dell'uomo di dominare la parola lo abbiamo visto con l'esempio dell'homme di Hazard solo alla fine i due protagonisti trovano il coraggio di parlarsi anzi trovano il coraggio di agire di fare una piccola azione banale che è quella di aprire il finestrino del vagone e da quell'azione scaturisce un dialogo anch'esso totalmente banale ciò che affronta Yasmina Reza è la difficoltà di prendere la parola ora Yasmina Reza mostra nelle sue pièce l'implosione delle relazioni sociali amicizie amore ma anche le semplici regole della convivenza civile tra le persone i non detti sottintesi le frecciatine e tutte quelle frazioni al codice del savoir vivre tutte quelle scorie che all'interno dei rapporti sociali si sedimentano giorno dopo giorno anno dopo anno fino a creare una vera e propria polveriera pronta ad esplodere le relazioni sociali sono un campo minato Reza mostra la loro disintegrazione similmente a quello che avviene ad esempio nei romanzi di Scott Fitzgerald pensiamo a The Beautiful and Dumped Tender is the Night Great Gatsby ciò che mostra Fitzgerald è la deflagrazione dei rapporti sociali tant'è vero che Fitzgerald è uno scrittore da sempre amato da Reza fin dall'adolescenza nel Dio du Carnage nel Dio del Massacro Reza non esita a fare a pezzi le fondamenta stesse della civiltà in una delle prime battute infatti uno dei personaggi si domanda retoricamente par chance il existe ancora un art de vivre ensemble no? esiste per caso ancora un'arte di vivere insieme? ciò che minaccia costantemente i rapporti umani è la volontà di dominio è la volontà di sopraffazione sull'altro tanto nei rapporti di amicizia quanto e soprattutto nei rapporti sentimentali c'è sempre un polo che cerca di sopraffare l'altro sia nella sfera psicologica che in quella fisica è come se jasminare sa ci mostrasse che alla base dei rapporti umani viggono le leggi del dio del massacro ora e mi abbia la conclusione questa è forse la più grande differenza che troviamo tra cekov e jasminare sa una differenza non solo dal punto di vista letterario ma io dire proprio una differenza dal punto di vista esistenziale di visione del mondo angelo maria ripellino scrive che la vita nell'universo letterario di cekov non può togliere la libertà di inventare un futuro il presente non conta è gelido e desolato il solo modo di vivere è vivere per il futuro cullarsi in questa meravigliosa illusione in jasminare sa scopriamo invece una totale assenza di futuro quasi tutti i personaggi di resa sono uomini e donne maturi da 50 60 anni ultra 60 anni e questo dato è dato è tanto più sconcertante se si pensa che la prima pièce di resa la scrive quando lei ha 27 28 anni ed è quindi ancora una ragazza molto giovane nessuno di loro ha lo sguardo rivolto verso il futuro ma solo verso il passato e il presente un eterno presente che non ha vie di fuga in avanti ma solamente all'indietro il futuro è assente anche nei tempi verbali in tutti i drammi di jasminare sa non ci sono verbi coniugati al futuro l'absence di future fa une de grands enigmes un de grands secrets de son text l'assenza del futuro è uno dei grandi enigmi e dei grandi segreti del suo testo grazie a tutti per l'ascolto grazie alessio grazie mille e adesso facciamo cronologicamente un passo indietro ma torniamo in area slava con la prossima relatrice Valentina Barbaniuk che insegna al dipartimento di pedagogia letteratura straniera ucraina all'università di Kharkov e ci parlerà della modernizzazione del giardino dei ciliegi di Cechov nella letteratura ucraina degli anni venti e trenta e credo che parlerà in russo Valentina sbrastuice grazie 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 in conferenze, in questo modo, io ora faccio la vostra razzesca la dimostrazione di ecran. Bene. 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 E faccio, pagine. In moderno miretura di all'idea accionale è stata la idea che 20-e storia, che è piena storica storica cataclizmica non è diventata la quattola città di città di città di città di città di città «Мы поставили перед собой цель выявить общие и национальные аспекты художественного восприятия чеховской пьесы «Завещание украинскими писателями 1920-1930-х годов». Mykola Kulish, Jakob Mamontov, Viktor Petrov Damontovic были современниками, более того, их можно считать чеховскими современниками по году рождения, которые относятся к XIX веку. Однако и становление, и профессиональная реализация этих выдающихся представителей украинской литературы I-III XX века были разными. Viktor Petrov Damontovic был единственным, чье формирование как интеллектуала-гуманитария происходило в стенах университета. Jakob Jemamontov и Mykola Kulish были самоучками. Впоследствии свою точку совместимости с советским режимом удалось, удастся найти только Виктору Петрову Damontovic и Якову Мамонтову. Первый реализует себя как ученый, второй – как партийный функционер в сфере театра и литературы. Mykola Kulish, став к середине 1920-х годов одной из центральных фигур украинской литературной, общественной, художественной жизни, будет объявлен в 1934 году буржуазно-националистическим драматургом, арестован и приговорен к десяти годам в соловецких лагерей, а в ноябре 1937 года расстрелян. Но обратимся к текстам этих писателей. Первая редакция пьесы Кулина «Комуна в степях» датируется 1925 годом, события снова на ней имущими крестьянами. Конфликт разгорается между членами коммуны и бывшим хозяином хутора, который не может смириться с потерей своего имения. Фамилия хозяина, который пятый год как убежал с хутора, подался за белыми – Вышневый. Читатель, знакомый с Чеховским театром, эту деталь не может оставить без внимания. Вишневые сады по Чехову уходят в прошлое, возможно, поэтому украинский драматург дает бывшему владельцу фамилию Вышневый. И «Вишневый сад», и «Комуна в степях» начинаются с возвращения хозяев в свое имение, либо находящиеся под угрозой утраты, либо уже утраченное. Со времени бегства Вишневого прошло пять лет. Столько же лет, напомню, не была в своем имении Ироневская. В речи персонажей Кулеша неоднократно возникает образ сада, как в символическом, так и в буквальном смысле. Например, из сада вышла девка, вот вчера поливали сад, целый день ведрами воду носили, а постав машину, так она бы за час-другой весь сад залила бы. Где же мы сад теперь будем садить? Что такое наша коммуна? Не сад социализма, а сад сухих досад, ну и другие. Кулеш не конкретизирует видовую принадлежность сада, хотя, как известно, именно садок Вишневый стал памятной принадлежностью украинской культуры. В чеховской пьесе, напомню, актуализируется архетипическая символика сада. В первую очередь Вишневый сад ассоциируется с райским садом Эдема. Это первооснова, образец всех садов. Сад, насаженный Богом, безгрешный, святой, обильный всем, что необходимо человеку, со всеми видами деревьев, растений, населенный мирно живущими друг с другом зверями. У Кулеша речь идет о коммуне, как о райском саде социализма, где не будет страданий и смерти. В мифологии сад содержит в себе некую особую ценность, первоначально сакральную, священное дерево, и потому нуждается не только в уходе, но и в охране. У Антона Павловича бессменным хранителем сада и дома является Фирс. Именно его реплика оказывается финальной. Со смертью Фирса Чеховский сад остается без охраны, а в наступившей тишине слышно, как далеко в саду топором стучат по дереву. Примечательно, что пьеса Кулеша начинается с монолога именно сторожа деда Касьяна, который раньше охранял имущество хозяина. А сейчас сторожит земли коммуны. Силы его, как и чеховского Фирса на исходе. Цитирую. Может, сядешь, старый, отдохнешь. А сяду, разве что. Может, и поспишь немножко. Ой, нет, как только засыпаю, так не поверишь, третью ночь хозяин мерещится. Дом и сад первоначало подлинного бытия. Без них мир не может быть устроен. Он распадается, превращается в хаос. Бездомный, безбытный мир – идеал Пети Трофимова. Подобно Пете, убедившим Аню отказаться от сада, который она любила так нежно, герой Кулеша Яков предлагает убежать из коммуны химия, героини. Коммунарскую жизнь не выдерживают многие. Это утешает Вышневого. Он не без удовольствия замечает. А почему замков не выкуешь, чтобы товарищи твои с коммуны не убежали? Можно сказать, невыкованные замки, коммуны в степях, развитие мотива выброшенных ключей Вишневого сада, без которых старые замки оказались не нужны, а новые так и не появились. Предложение Якова убежать туда, где электрический свет, где провода, дорог много, где машины, к шахтам, к морю, в горы, слышатся отголоски не только утопических призывов Трофимова, но и лопахинской трактовки звука лопнувшей струны. Где-нибудь далеко в шахтах сорвалась бадья, но где-нибудь очень далеко. Именно в эти дали стремятся молодые герои коммуны, не очень отчетливо представляя, что их там ожидает. Бывший хозяин, кулак Вышневый, как некогда Лопахин, заметим по словам Гаева, тоже кулак, предлагает злободневные выходы из сложившейся ситуации разочарованным членам коммуны, объединиться и взять мельницу. В коллективную собственность. Решить этот важный вопрос в городе поручают герою по фамилии Ахты Тельный, как и Гаев, отправившийся в город на торги. Эта фигура полукомическая. Фамилия героя напоминает ономастикон чеховской юмористике. Речь заставляет вспомнить чеховского Епиходова и отчасти Яшу, приобщившихся лишь к внешним проявлениям культуры и не в попад демонстрирующих свою образованность. Своей же изобретательностью и приспособляемостью к любым условиям Ахты Тельный сродни Симеонову Пищику. Чеховские второстепенные в сюжетном отношении, но очень значимые для понимания авторской концепции пьесы герои, гувернантка Шарлотта, безымянный прохожий, становятся прототипами безфамильного, не знающего даты рождения Цыгана по имени Мун. Показателен разговор с Цыганом, которого Вышневый пытается переманить на свою сторону. Этот разговор перекликается с рассказом Лопахина о торгах по поводу Вишневого сада. В пьесе Кулеша предмет торга изменился, но имение земельный надел остается точкой пересечения интересов. И хотя Вышневый терпит неудачу, деньги по-прежнему имеют власть над человеческой душой. Анализ чеховских мотивов в других пьесах Кулеша в последствии патетическая соната Макленогранца подтверждает, что Кулешу-драматургу, подобно большинству выдающихся художников XX века, не удалось избежать воздействия творчества Антона Павловича Чехова. Отношения современника Кулеша, другого украинского писателя этого периода, Якова Мамонтова, отношения к Чехову колеблется от прохладной сдержанности. Цитирую, я не разделяю этого увлечения чеховской драматургией. Я не разделяю этого увлечения чеховской драматургией, но поучиться и у Чехова нам, несомненно, есть чему. К откровенному восхищению. Настоящий мастер, великий мастер, мастер психологической драмы, великий мастер настроенческой, бездеятельной действенности. Одна из самых популярных пьес Мамонтова, «Республика на колесах», написана в 1927 году. Она была создана для конкурса, объявленного по случаю десятилетия Октябрьской революции 1917 года, и получила третью премию, при том, что две первые присуждены не были. Пьесу ставили Московский и Ленинградский театры-сатиры, Московский театр имени Ермоловой. Между тем, автор не был удовлетворен сценическими трактовками пьесы. По сюжету некий армейский прапорщик с небольшой группой солдат-анархистов располагается в панском доме, брошенном во время революции, и объявляет себя новым хозяином, президентом им же созданной республики. О саде вообще не упоминается, однако у дома есть свой хранитель, напоминающий чеховского фирса. Это старый лакей панский архип. Анализируя современные рецепции Вишневого сада, и сегодня все эти дни об этом звучало на нашей конференции, исследователи отмечают многозначительную подвижку в персональной системе. В отмену приоритетов главных героев Раневска и Лопахина в драматургии последнего десятилетия на авансцену творческой рефлексии выводится такой эпизодический, маргинальный, как кажется, персонаж Фирс. У Мамонтова, как и у Чехова, второстепенный персонаж заметно укрупняется, становясь своеобразным вместилищем неких уже общечеловеческих смыслов. Особенно плотно насыщено чеховскими реминесценциями десятое явление третьего акта, пышный бал, это вечер, так же, как и в Вишневом саде, является своего рода пир во время чумы, праздник, устроенный на переукор реальности. Цитата по Борису Зингерману. Вспомним состояние Раневска. Любовь Андреевна угнетена, она упала бы, если бы не стояла возле кресла и стола. Играет музыка. Любовь Андреевна опустилась на стул и горько плачет. Еще цитата из Чехова. В зале и гостиной нет никого, кроме Любови Андреевны, которая сидит, сжаласься и горько плачет. Тихо играет музыка. Знаменательным является эпизод с чтением поэмы Толстого, грешница, героиня которой ассоциируется с Раневской, о греховности которой неоднократно упоминается. Сниженный вариант Толстовской, чеховской грешницы представлен в пьесе и украинского драматурга Мамонтова образом некой Люси. Появление двух других героев Мерчика и Печенова сродни появлению Лопахина и Гаева. Герои Мамонтова также сообщают новости, которые кардинально изменят жизни окружающих. Мамонтов-критик, напомню, что кроме того, что он был драматургом, он был еще и критиком, придавал особое значение специфическим средствам театральной выразительности. Например, знаменитую чеховскую ремарку о звуке лопнувшей струны, критик считал исключительной по силе. Именно этот чеховский звуковой образ неоднократно обыгран Мамонтовым драматургом в пьесе «Республика на колесах». Цитирую из пьесы Мамонтова. «Внезапно раздается тихий торжественный звон, все будто окаменели от неожиданности, напряженно слушают. Архип. Семь раз ударили, это перед большим несчастьем. Эти часы я помню еще с малых лет. Они бьют, когда им захочется. В несколько лет раз, всегда перед несчастьем. Старый лакей, подобно чеховскому фирсу, живет давно, все помнит и объясняет на свой лад. Сравним у Антона Павловича. Все сидят, задумавшись, тишина. Слышно только, как тихо бормочет фирс. Вдруг раздается отдаленный звук, точно с неба звук, лопнувший струны, замирающий, печальный. Любовь Андреевна вздрагивает. Неприятно почему-то. Пауза. Фирс. Перед несчастьем тоже было. И сова кричала. И сам вар гудел бесперечь. С часами, звук которых напугал героев по революционному в пьесе Мамонтова разберется президент Дудка. Господа, цитирую из пьесы, будем веселиться. А часы к чертовой матери стреляют из револьвера. Часы разбиваются с жалобным звоном. Этот проступок напугал Архипа, который с ужасом бросается к Дудке. Что вы натворили? Напомню, что в пьесе рассматривая фарфоровые часы, роняет их и разбивает в дребезги. Все огорчены, сконфужены. Чебутыкин, цитирую. Может, я не разбивал, а только кажется, что разбил. Может быть, нам только кажется, что мы существуем, а на самом деле нас нет. Ничего я не знаю. Никто ничего не знает. Конец цитаты. Разбитые часы символизируют разрыв с прошлым, завершение исторической эпохи и вместе с тем духовное омертвение, ущербность жизненной философии героев. Заканчивается сцена символично у Мамонтова. Тихо, как привидение, появляется Архип, подходит к разбитым часам и грустно качает головой. Архип. Еще при царе Александре Михайловиче дали на покойной барыне конец, всему конец, вытирает платком глаза. Набат. Мамонтов, будучи теоретиком театра, указывал на огромное обобщающее содержание заключительной чеховской ремарки. цитирую из одной из статьи Мамонтова. Идейный замысел автора в ней проявляется в наиболее конденсированной материализованной форме. Стук топора по дереву. Именно в этом и заключается высшее мастерство драматурга. Так написать пьесу, чтобы наиболее глубокое содержание ее, в конце концов, можно было проявить самым простым движением или звуком. Вслед за чеховым Мамонтом завершает пьесу звуковым эффектом, используя набат. Напомним, что набат звучит и в двух предыдущих действиях мамонтовской пьесы, становясь обобщающим звуковым маркером. Как и у Чехова в пьесе Мамонтова, набат создает атмосферу тревоги, напоминая обушующий за пределами дома стихии, подталкивает человека к раздумьям не о сиюминутном, а о вечном. Украинский автор реализует представление о революции, как о пожаре, разрушительная сила которого уничтожает прошлое и будущее, рушит иллюзии. Герои пьесы Вишневый сад уезжают, республики на колесах разбегаются, на станции ожидают новых хозяев, для этого меняют вывеску на большевистскую, комический эпизод со сменой вывески оборачивается кровью и смертью, возникший при смене вывески мотив красного цвета косвенным образом вновь отсылает к чеховской пьесе. В вишневом саде красный цвет ассоциируется с плодами вишни, вишневые деревья во втором действии сочетаются с кладбищем, на что указывал в свое время Михаил Громов. Точно такое же сочетание находим в повести у Антона Павловича «Степь» лейтмотив вишни, тесно связанный с кладбищем и смертью. В пьесе Мамонтова усиливает возникшие ассоциации красный, в романист. И на момент появления его романа, который переводится буквально «Без почвы», события этого романа разворачиваются в обновленном индустриальном украинском городе Днепропетровске в 1920-30-е годы. Уже было очевидно, что бесперспективным оказался не только бизнес-план предприимчивого Лопахина, но и обещание революционно настроенного Пети Трофимова. Его гордый человек так и не стал великаном, а к яркой звезде, которая горит там вдали, точно так же продолжали только идти неудержимо. У Петрова Дамонтовича, повторюсь, модернистский роман. В центре конфликта судьба уникального памятника национальной архитектуры Варяжской церкви, якобы построенной в городе в начале XX века. Варяжская церковь, символизирующая вечные ценности, оказывается под угрозой уничтожения, как в свое время поэтический Чеховский сад. На драматургическую основу своего романа Петров Дамонтович указывает читателю такими вкраплениями, как ремарка автора. Одним из ключевых в романе, как и в пьесах Чехова, являются мифологемы дерева и дома. Герой, имя которого Ростислава, темологически прозрачный и трактуется как тот, который растет, в растерянности наблюдает индустриальный пейзаж. Цитирую, я не выдерживаю, представьте себе, ни единого дерева. У Петрова Дамонтовича вокзал является непосредственным местом действия. Со временем вокзалы превратились в железнодорожные парки. Цитата, от бывшей степи не осталось и следа. Семантика уничтожения усиливается, поскольку к потерянному дому и саду добавляется степь, еще один ключевой концепт чеховского творчества. Оба героя Ира Невская и Ростислав Михайлович возвращаются домой вынужденно, чтобы решить судьбу «Одна дома и вишневого сада», который упоминается даже в энциклопедическом словаре, «Другой варяжской церкви». Произведение высокого искусства рассматривали как обычное строение, как помещение, что имеет такое-то и такое-то количество квадратных метров общей площади, которую можно использовать полезнее, чем до сих пор. Как мы помним, практичный чеховский Лопахин тоже среди достоинств сада выделяет, кроме его месторасположения, площадь. Замечательного в этом саду только то, что он большой и предлагает снести постройки, вырубить сад, а участок сдать в аренду под дачи. Выясняется, что относительно церкви существует свой лопахинский проект, тоже снять все дома и вместо этого построить огромный блок-комбинат, варяжскую церковь снести и с архитектором-линником покончить. Ростислав Михайлович, подобно Раневской Игаеву, ратуя за сохранение культурного памятника, хотел бы остаться в стороне от дискуссии, которая представляла собой что-то наподобие торгов. Второе действие, напомню, Вишневого сада предваряет ремарка. Поле, старая покривившаяся давно заброшенная часовенка, возле нее колодец, большие камни, когда-то бывшие, по-видимому, могильными плитами и старая скамья. Главный герой романа, придя на собрание в Варяжскую церковь слишком рано, обходит кладбище и находит скамейку над самой кручей. Романная ремарка напоминает полотно Левитана над вечным покоем. На фоне этого пейзажа чеховские размышления героя. Герой Давантовича разворачивает мысль Лопахина о бескрайних просторах и великанах. В романе таким совсем несказочным героем, великаном, является Линник, мастер, который построил Варяжскую Софию. Его искусство отбрасывает хуторянство и провинционализм. Цитирую, он не рисовал вишневых садочков, он не рисовал ни цветов, ни утро, ни зим, ни весен. Он издевался над искусством, которое трогает. Картина Линника с говорящим названием «Город рубят» ассоциируется с финалом Чеховского вишневого сада, где наступает тишина и только слышно, как далеко в саду топором стучат по дереву. Во всех деталях это полотно воспроизводит в своей по памяти главный герой. Цитирую, «В синеве сумерек на пригорке опушки молчаливые люди рубят топорами стволы дубов ни одного свободного, несвязанного движения, ни одного четкого цвета. В унылой тишине порабощенные люди работают по приказу человека, закованного в черное железо. Погибает лес, падает вековое дерево, грозные трески его падения, рвет тишину, за врагом, на трубной горе люди сооружают город». Картина Линника звучит, и главный ее звук, который точно так, как и у Чехова, нарушает тишину, стук топора по дереву. Варяжская церковь, символизируя вечное, точно так же оказалась под угрозой уничтожения, как в свое время поэтический чеховский сад. все эти аналогии усиливают мотив абсурдного уничтожения. В романе Петрова Дамонтовича материализовалось обещание чеховского Пети Трофимова насадить новый сад. Вместо Потемкинского сада, когда-то, по воспоминаниям героя идилличного, был сооружен парк культуры и отдыха. Цитирую, Новый сад имел совсем другой вид. Молодые деревья подчинены были регламенту песком посыпанных дорожек. Цветы перестали быть тем, чем они были до этого, цветами. На клумбах производили цветы впечатления, нарисованных на фанере. Сад, точнее, отношение к нему выступает в романе точно так же, как и в чеховской пьесе «Этическим маркером». На восьмом международном конкурсе театральной архитектуры в 2011 году британский дизайнер режиссер Монблан и Платок воссоздали образ дворянской усадьбы в пространстве храма. Расцененный как дерзкий их замысел заключался в том, чтобы не использовать помещение храма, а осуществить размещение в храме, писать пространство сада в пространство храма, совместить горизонтали одного поэтического объекта с вертикалями реально существующего другого. Об этом в статье Гульченко очень подробно описывается в этом проекте. Этот современный проект отчасти предугадан в романе Петрова Дамонтовича. Писатель вписал пространство Чеховского сада в пространство Варяжской церкви, которую можно взорвать, уничтожить, но невозможно продать или переделать на музей или склад. Как видим, произведения трех украинских писателей Кулеша, Мамонтова, Петрова Дамонтовича репрезентируют по отношению к чеховскому наследию различные формы культурно-творческого диалога, три различные варианта интертекстуальной стратегии. Аккумуляция художественных идей предтекста у Кулеша, игра с предтекстом у Мамонтова, вариация на тему предтекста, в которой чеховский текст просматривается отдаленным фоном у Петрова Дамонтовича. Интертекстуальная поэтика каждого из авторов отражает как своеобразие творческой личности, так и культурные константы общественного и национального сознания. Кулеш-драматург, синтезируя в своем творчестве национальную традицию и достижение западноевропейской драматургии, воспринимал опыт новой драмы прежде всего через Антона Павловича, о чем свидетельствует, как я уже говорила выше, не только пьеса нами анализируемая, но и последующие за ней, написанные в 1929 и в 1933 году, патетическая соната и Маклена Грасса. Рецепция Мамонтова не только драматурга, но и теоретика театра в полной мере репрезентирует официальную точку зрения. В его колеблющемся от прохладно сдержанного к откровенно захватывающему отношению в полной мере отражены споры 1920-1930 годов, касающиеся общественного значения творчества Антона Павловича. Манера вольного обращения с чужим текстом предвосхищает рецепцию, именуемую в постмодернистском дискурсе игрой в осколки. Для Петрова Дамонтовича Чехов не идеологически чуждый представитель другого времени, а критерии литературно-культурной значимости. Присутствие Антона Павловича в художественном мире Петрова Дамонтовича это не прямой, а посредованный диалог, когда созвучие эстетических намерений проявляется в схожих ситуациях, конфликтах, характерах героев и обусловлено в частности культурным контекстом, культурным тезаурусом. Угадываемость чеховских мотивов и мифологем позволяет, не ссылаясь напрямую, ориентироваться на Чехова как на знаковую фигуру. Таким образом, диалог с произведениями Чехова позволил украинским писателям в 1920-1930-е годы период идеологических давлений, общественных влияний, смены политических настроений, акцентировать вечные общечеловеческие смыслы своих произведений. При этом основой для размышлений авторов о содержании и перспективах современной им жизни послужили нравственные начало чеховского миропонимания. Большое спасибо за внимание. Вам спасибо. Dunque, se dalla regia non mi arrivano contrordini, noi facciamo una pausa fino alle 16 e ricominciamo alle 4, quindi con gli ultimi due interventi, la discussione anche relativa agli interventi che abbiamo appena ascoltato. Forse, Giuseppina, possiamo iniziare anche 5 minuti prima? Siamo un po' in anticipo, quindi recuperiamo, facciamo sì la pausa, ma ci vediamo un pochino prima. Va bene, allora dico all'auliglieri di non andarsi a prendere la granita. Esattamente, è per questo che ho voluto ricordartelo. Allora, 15 e 55, tanto mettete voi l'avviso con l'oraio. Non l'avviso, vai. Pianamente mettiamo l'ora precisa in cui facciamo ogni cosa. A dopo, grazie. Grazie a te. 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 Allora. Terminiamo con gli ultimi due interventi. E vado a presentare, insomma, al grado, Clavia Olivieri che è ricercatrice presso l'Università di Catania, specialista di Dostoevsky, di teatro russo contemporaneo, nonché di cinema, e il titolo del suo intervento è appunto Cecco, suo malgrado. Claudia, ci sei? Sono qua, mi sentite e mi vedete, suppongo. Benissimo. Hai fatto il ritratto di una schizofrenica, perché spazio da Dostoevsky fino al teatro contemporaneo, condivido anche io lo schermo, ci provo perlomeno, mi sono esercitata durante la pausa, inutilmente, mi sembra di capire, chiedo scusa. Eccolo qua, questa è la presentazione, quindi questo chiudo, ora ho perso zoom, chiedo scusa. Allora, eccola qua. Seguo le istruzioni di Manuel, di Manuel Chekhov, direi, ormai. E ormai lo ricorderemo con quello schermo. Bravissimo. Si vede lo schermo? Sì, sì. Ok, adesso avvio la presentazione dall'inizio. E tuttavia, prima di cominciare, è d'obbligo, mi è d'obbligo, nonostante sia stato detto ad ogni intervento, praticamente, ringraziare sentitamente gli organizzatori, Giulia, Donatella, Manuel, Giorgia, che ancora non conosco di persona, non solo per la bellissima conferenza, ma, però questo qua non me lo scontate dal mio tempo, va bene, sono, non facciamo partire Sciocic, ma per, ci sono stati tanti momenti coinvolgenti in questi quattro giorni e mi chiedo che cosa faremo da domani mattina, cioè avrò l'effetto costa crociere, so cosa farete voi, non so cosa faremo noi partecipanti e direi che nonostante lo strumento che subiamo tutti da un anno abbondante, voi vi è riuscito non solo organizzare un convegno epico, secondo me, di altissima qualità scientifica, ma di questo non avevamo dubbi dati gli organizzatori del comitato scientifico, ma di restituire, di accorciare le distanze e restituire molta umanità a queste attività, questo è veramente un valore aggiunto, grazie di cuore, sapete che sono sentimentale, ma sento davvero di dirvelo, non ringrazio gli interpreti, non perché non meritino il mio ringraziamento e tutta la mia ammirazione, piuttosto mi scuso con loro perché sarò difficile da tradurre, perché parlo molto velocemente, ma abbiamo quasi finito. Mi è stato fatto notare da un amico che credo sia collegato che tanto io quanto Irene siamo, che non conosco ancora personalmente, ma mi auguro di recuperare presto, siamo delle ciliegine sulla torta e devo dire che essere una ciliegia per Cekov non è cosa da poco, speriamo di essere una ciliegia cekoviana e non puskiniana come nel colpo di pistola, quindi speriamo di non andare di traverso. Di cosa vi vorrei parlare? Di un argomento che oggi è stato parzialmente trattato, che è stato, cui oggi si è già accennato Anna Maron, che riguarda delle riscritture contemporanee ispirate a Cekov. E' uno spoiler su una ricerca che sto conducendo in questo momento, perché non va avanti la presentazione, ok? Che sto conducendo in questo momento, quindi vi sarei particolarmente grata, ovvero ce ne fossero delle vostre suggestioni, critiche, suggerimenti e quant'altro. Il sistema di riscritture, lo mostrava magistralmente Anna Maron, è molto molto ampio. Quelle sulle quali mi soffermerò io hanno una caratteristica che le accomuna, ossia vedono tra i personaggi in scena lo stesso Cekov. Oggi lo abbiamo intravisto, ma non ci siamo molto soffermati su Cekov eroe. Per raccontarvele, per descriverle, ho utilizzato due parametri, ossia il parametro della verosimiglia, sono due parametri farlocchi entrambi, uno è quello, vedremo che non reggono fino alla fine, ma era solo un tentativo per organizzare il discorso. Uno è quello della verosimiglianza, cioè le organizzo da quelle più inverosimili a quelle apparentemente più inverosimili. L'altro che ne consegue è quello dei generi. Io ho immaginato dei sottogeneri che sono il prequel, lo skin off, la mockumentary oppure iperdocumentarietà. E Fanta Cekov, che è quello da cui vorrei cominciare. Perché Fanta Cekov? Mi riferisco a una pièce che oggi è già stata citata, perché nel primo gruppo in cui si collocano due pièce, Czajka di Konstantin Kastienk e Vishnovyat Stanislavskava di Bagaiev, Cekov è un personaggio, in scena sì, ma fantastico. Nella prima lo abbiamo intravisto oggi e in scena nelle vesti di un ritratto che tuttavia è un ritratto parecchio animato. Nella seconda nelle vesti di un probbido, provvidenziale, Angelo Custode. Entrambi i drammaturghi che vediamo sono, adesso li vediamo entrambi, sono appartengono, sono riconducibili alla scuola di Caterimburgo e di Nicolai Caliedà. Guardiamo la prima pièce molto brevemente, perché ripeto ne ha già parlato Anna Maron, dove il ritratto di Cekov, che campeggia in scena fin dall'inizio con un fucile puntato, lo ha già citato stamattina Massimo Trier, che compare in quasi tutte le riscritture che io ho analizzato. Campeggia in scena questo ritratto col fucile puntato ed è un ritratto che mangia la torta, che gli è offerta da Tripluf o Tripluf, che dir si voglia, parla rigorosamente per battute altrui e talvolta anche battute di altre opere teatrali. Sicuramente, rispetto alla pièce di Bagaiev, lo scopo di Kastienko non è tanto aggredire Cekov quanto la sua opera, che nell'ultima scena, nel quinto atto, vediamo Brasliese, vediamo Vivi Sezionata. Tripluf sappiamo che è animato dal sacro fuoco della scrittura e finalmente non fa altro che nell'ultimo atto, peraltro Cekov è anche scomparso perché ormai è stato sostituito dal manifesto di questo gabbiano Vivi Sezionato non fa che produrre un gabbiano dopo l'altro, un gabbiano di carta aiutato da Dorne. Per Aliek Bagaiev le cose stanno in una maniera un po' diversa, do un attimo di pausa forse all'interprete perché la sua aggressione nel Giardino dei Ciliegi di Stanislavski non è rivolta tanto al testo quanto al regista. Bagaiev, che è uno scafato uomo di teatro, fa riferimento a un fatto, a fatti che occorrono veramente sulle scene russe, cioè che una troupe si è divorata un regista. La troupe a cui si fa riferimento in questa intervista che vedete nella slide e lo fa metaforicamente, nella pièce di Bagaiev questo avviene realmente. Gli attori mangiano, ammazzano e mangiano il regista, gustano l'arte viene detto. Purtroppo non posso citare come vorrei le pièce che sono molto divertenti. Nella slide ho previsto i collegamenti per testuali ai testi veri e propri nel caso qualcuno li volesse approfondire. Tantomeno ahimè parlerò degli allestimenti che in questi giorni abbiamo visto essere fondamentali. Per cui gli attori gustano l'arte mangiando il povero regista e qui mi sentirei di tranquillizzare Vinicio Marchioni che ieri sera si diceva, si dichiarava preoccupato per sue azzardate scelte di regia che lui riteneva azzardate che Chekhov gli comparisse in Sogno rimproverandolo. Chekhov, perlomeno rispetto a questo regista, la cui geniale idea di allestimento è recitare il Giardino dei Ciliegi al contrario, come potete vedere da, nonostante insomma la sua trovata geniale sia recitare l'intera pièce al contrario, ecco perché gli attori lo divorano, insomma viene salvato da Chekhov. Quello che vedete nella slide è il dialogo conclusivo che si svolge fra Chekhov e Stanislavski che sono due presenze ultraterrene. Stanislavski, ma ce lo rivelava già stamattina Pausto Malcovati, si mostra molto rigido rispetto a questa fantasiosa interpretazione, a quello che si vede in scena. Il rimprovera Chekhov di risorgere questo regista già per la terza volta, però Chekhov dice io sono l'autore, ho pieno diritto di farlo e tuttavia alla fine si mostra un po' perplesso, dice forse avrei dovuto scrivere in una maniera più chiara per essere più comprensibile ai miei successori. Quello che pone il problema che focalizza, che pone quello su cui si concentra Bagaev è quindi il problema della della ricezione che in qualche modo è centrale, anche se in termini diversi si parla della ricezione testuale e non quella degli allestimenti. E' il problema che pone Bavilskij con il suo ci tiene carte, le carte lette al tatto, che sembrano rivolte un po' come Ciaika di Apunin a un lettore un po' ignorante. E' il lettore che sta uscendo dal canone sovietico, che è nel mainstream post-sovietico, che fa un po' confusione e che probabilmente va attratto con un fantasioso prequel, prequel nel quale scopriamo come Chekhov scriva il giardino dei ciliegi. In questo fantasioso prequel, che in parte è persino verosimile, Chekhov è un personaggio ormai in carne e ossa, si trova a Parigi, sulla banchina della stazione, del treno che sta prendendo e incontra l'amico Trigorin, che è un letterato come lui, che sta accompagnando Ragnerskaya, la quale sta tornando in Russia e durante il viaggio gli ispirerà la composizione, il soggetto del giardino dei ciliegi, del giardino dei ciliegi, che tanto lo tormentava perché poverino scriveva quattro righe al giorno. Sappiamo che questo è parzialmente vero. Ora, volendo questo incontro potrebbe persino essere plausibile. Certo, lo è di meno la virata, sicuramente surreale, il pastisce, che vediamo dopo, a poco a poco, dove l'allegra compagnia, Ragnerskaya torna a casa con Ania, Charlottevano, insomma con tutto il codazzo che siamo abituati a vedere sulle scene, dove a un certo punto insomma si innesta un dibattito, non tanto su Acugiava e Wysworski, che lo ricordo sono, come dire, di parecchio successivi a questi eventi, ma Cechov si profonde in dettagli anche, e trovo assolutamente poco verosimile che Cechov parlasse dei dettagli della sua vita ero sentimentale di fronte a delle signore. Probabilmente, apparentemente, sono sicuramente meno dissacratorie, paiono meno dissacratorie, più serie, hanno un aspetto più serio, le successive due pièce, che entrambe, non è un caso, anche in questo caso, partorito nello stesso milieu teatrale, nello stesso contesto culturale, che è quello della nuova Iadrama, e più specificatamente del Ziatr Doc, del mio adorato Ziatr Doc. Mi riferisco, queste pièce le ho chiamate spin-off, per quale ragione? Perché vedono, come le altre Cechov, diciamo, presente in scena, diciamo così, ora entrerò nel dettaglio, ma si concentrano non sulla vita di Cechov, quindi Manuel e Cinzia Delotto, io non posso rispondere del perché Cechov sia andato a Sakhalin, di questo dibattito, del dibattito critico, però posso dire che cosa facevano a Sakhalin mentre lo aspettavano, perché si concentra su episodi, diciamo, paralleli della vita di Cechov. In tutto questo Cechov è costantemente atteso in scena e in un caso, in uno dei due casi, non compare mai. Mi riferisco proprio alla prima pièce della compianta scomparsa Iliena Grimina, Sakhalinskaya Gena, oggi è stata citata anche da Anna Maron, nella quale Cechov è atteso per tutta la pièce. Di fatto la sua presente in scena è irrilevante perché non incide in una delle caratteristiche principali del teatro che è l'azione, non turba l'azione e anzi, quando Cechov finalmente arriva, ma noi non lo vediamo, cala il sipario. Quello che è più interessante è quello che succede a Sakhalin, dove, come ci viene detto nel titolo, ci viene suggerito dal titolo, viene data, arriva una moglie in due, cioè viene mandata una colonna perché sposi uno dei due detenuti che vediamo in scena. Quindi la storia prende una piega, se vogliamo, anche l'escoviana, fortunatamente non così tragica, con punte di ironia perché, come vediamo nella citazione, nell'arrivo di Cechov, nell'arrivo, nell'attesa di Cechov, tutti un po' si agitano, riecheggia quello del celebre revisore gogoliano. L'uso di moduli teatrali altri è abbastanza frequente, perlomeno al SIAC DOC. Dicevo, la presenza in scena di Cechov è per certi aspetti poco significativa dal punto di vista dell'azione e tuttavia anche in questa narrazione realistica tutto sommato si possono riscontrare delle tendenze che vedremo poi nell'iperrealismo, cioè l'azione, queste sono le battute conclusive, si sdoppia, segue un piano astratto ed è, o se vogliamo, in termini teatrali, extrascenico. Alla fine, tra coloro che aspettavano con ansia Cechov, c'erano gli intellettuali del posto, tra i quali Hunter, che scopriamo lungo l'azione essere uno studente che aveva combinato qualcosa nella capitale, era stato cacciato dall'università ed era finito a Sakhalin. Scopriamo alla fine, perché l'azione poi ha una ricaduta extrascenica, scopriamo alla fine che Hunter, grazie a Cechov, quindi Cechov continua a essere provvidenziale, è tornato nella capitale. Tuttavia, sulla scena c'è pure un evento i cui limiti cronologici vanno oltre la narrazione, ossia una delle colonne, Marina, che è proprio un'indigena, è una di Sakhalin, infatti parla anche in una lingua un po' strana e spesso quando non le conviene fa finta di non capire il russo. Marina fa una strana profezia che ai tempi non sarebbe potuta esistere, ovvero viene detto che Cechov è malato, ha fatto male a venire qui, questo dottore è malato, vivrà 10, forse 15 anni. Quindi è un realismo che fa un po' acqua da tutte le parti e se vogliamo anche questa pièce allude un po' al problema della ricezione non solo dell'opera czechoviana, ma anche della figura di questo grande, grandissimo autore. Più o meno le stesse dinamiche si agiscono nel dramma di Vazim Yevanov, Salaviansky Bazar. Il titolo è tutto un programma, anche in questo caso Yevanov si rifà a un episodio marginale della vita di Cechov, che non è nemmeno un episodio della sua vita, ossia il celebre incontro allo Slaviansky Bazar nel quale Stanislavski e Nemirovich Dancik decisero l'istituzione del teatro d'arte. La pièce è molto divertente e anche in questo caso viene detto fin dall'inizio Cechov è atteso dei due che si intrattengono in una libaggione luculliana per tutta la durata dell'opera, ma alla fine lui comparirà, vedremo come. Anche in questo caso c'è una spasatura surreale cronologica, ossia Cechov è atteso e non fanno altro del dire che il signor Cechov viene o no, che facciamo? Ordiniamo pure per lui? Poi grazie al fatto che ritarda decidono di accollargli anche il conto da pagare, ormai salatissimo, e Cechov è contemporaneamente ovunque, è a Yalta, Tagaroc, Baden-Baden, in tutti i luoghi canonici della sua biografia più o meno reali, o addirittura è già morto a Baden-Baden. Anche in questo caso l'autore, il drammaturgo Lievanov non perde l'occasione di un divertente, per fare un divertente gioco di parole e per abbattere i confini temporali, perché a un certo punto anche Stanislavski chiede, quando sono morto io. Dicevo, tuttavia, non mi soffermo sulla pièce, ma vi consiglio di leggerla perché fa molto molto ridere e molto riflettere, dicevo Cechov alla fine guadagna la scena, scoppia un incendio e Cechov irrompe di scena nelle singolarissime vesti di pompiere, con tanto di casco da pompiere, quindi è un after che ziot i tushit, se vogliamo, perché fa ridere, però poi spegne pure l'incendio, e l'unica singola battuta che pronuncia non è sua. Ora, per ragioni vorrei soffermarmi su una cosa che comunque oggi è stata già discussa nella produzione di Fausto Malcovati. Devo dire che Livanov si toglie qualche sassolino della scarpa rispetto a determinati registi, perché c'è insomma un lungo dialogo tra Nimirovic e Stanislavski che dicono, ma insomma, ma che vuole Cechov da noi? Dice che non lo capiamo, ma Cechov lo abbiamo inventato noi e preferisco rivolgere la vostra attenzione su un aspetto che mi sembra comune tanto in Livanov quanto in Griemina, ossia le loro opere si rifanno a Cechov in realtà per parlare del teatro all'oro contemporaneo. Parliamo di testi recentissimi, insomma del primo decennio dei 2000, cosa che è particolarmente evidente nella pièce di Livanov, dove viene detto che fra due o trecento anni il teatro non esisterà più, esisterà una cosa che insomma somiglia molto allo smartphone, all'iPhone o comunque a una televisione molto trash e ciascuno sarà il proprio Cechov. C'è Cachdi, Budi e Cechov, no? C'è con il dato, mi sembra che meriti una riflessione. Io comunque non sono d'accordo, penso che Cechov sia uno solo. Su questa falsa riga, infatti si possono intravedere delle sovrapposizioni, continuano gli autori delle ultime due pièce delle quali vorrei parlarvi, ossia, ancora una volta Griemi, sì? Che succede? No, 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 l'unica cosa è che hai un paio di minuti, quindi... Ok, sì, sì, le ultime, io pensavo di finire pure prima, come al solito sono dissociata, le ultime due pièce le chiamo iperrealistiche. Per quale ragione? Perché di fatto sono delle pièce documentarie che si concentrano sulla vita sentimentale di Cechov, che fu particolarmente tormentata, quindi su dati documentari, carteggi, opere, letteratura critica, su testi veri, tuttavia entrambe con una marcata dirata fantastica. Mi soffermo su Griemina in particolare e in particolar modo su Bracia Cech, pièce documentaria dalla quale peraltro è stato tratto un bellissimo film, e osservo che Griemina rispetto a Butchkov faccia un'operazione in più, cioè renda Cechov uno, come dire, un personaggio del suo stesso mondo artistico. Quindi da Fantashekov, da un ritratto e da un angelo, siamo arrivati a un personaggio vero e proprio, che si muove nel suo stesso mondo artistico e che, cosa che si vede, se vogliamo, anche nel titolo, e il titolo di quest'opera è Bracia Cech, i fratelli Cech, i protagonisti sono tutti e tre, tre, uno, due, tre, fratelli Cechov, avrete capito dove sto andando a parare, tre fratelli come tre sorelle. Trovo molto toccante l'ultima battuta di Cech, anch'essa pronunciata da un piano extra cronologico, cioè dalla nostra epoca, non dalla sua, nel quale dice che lo scrittore ha la facoltà di fare riemergere dalla polvere, con un solo colpo di penna, tutte le persone che lo hanno amato e che lo amano e che lui ha amato. Infine, conclusioni non provvisorie, per quanto vorrei fare come Pushkin alla casetta, ci vuole la morale, eccola. Perché studiare queste pièce, per quale ragione? Perché mi sembra che consentano ad un tempo di vedere l'opera, di vedere l'epoca che le ha prodotte, cioè vedere la nostra contemporaneità, Cech che da questo punto di vista è un ottimo prisma. E nel contempo, contemporaneamente, di vedere come la nostra epoca legga e rilegga Cech. In qualsiasi caso, mi sembra, dicevo che il corpus è molto esteso, ho collezionato una trentina di chiesti, mi sembra che Cech non lo lasciano proprio in pace. Probabilmente perché non si può lasciare in pace, se si parla di teatro contemporaneo non si può non parlare di Cech. E probabilmente nemmeno si deve. D'altro canto lui, mi sono molto meravigliata, lui resiste a qualunque attacco, a qualunque aggressione e probabilmente dimostra che anche lui è un po' il nostro tutto, se vogliamo. E su questo per ora mi taccio e vi ringrazio della vostra attenzione. Resto qui. Grazie, Claudia. Credo che uno degli aspetti che più abbiamo apprezzato di questo convegno sia la presenza di attrici e attori. Abbiamo avuto Monica Santoro, lunedì, stamattina la compagnia Il Mulino di Amleto. E concludiamo con Irene Muscarà, attrice messinese trasferitasi a Mosca e diplomatasi all'Accademia Russa di Arte Drammatica. Lei lavora a Mosca già da tempo evidentemente e il titolo del suo intervento è Attore o coautore? Il non detto è la creazione dei personaggi cecoviani. E se Claudia Olivieri... Ecco, ha tolto la presentazione. E Irene... Ecco, mi sentite? Sì. Ecco. Bene, buonasera a tutti. Siamo sdrappati. Per me è un grandissimo onore poter partecipare a questo convegno. Anch'io voglio ringraziare tantissimo la professoressa Giulia Marcucci per l'invito. e anche vorrei soltanto dire che l'intervento di Claudia Olivieri che c'è appena stato, questo non era in programma da dire, però mi ha commosso perché conoscevo molto bene il maestro Ugaraf e la moglie che purtroppo ci hanno lasciati. E quindi... E tra l'altro i tre fratelli che recitano sono tre attori con cui ho studiato, mi sono formata a Guitis, quindi... Bene, detto questo, il mio intervento si propone di condividere la mia esperienza di attrice nel dare vita ai personaggi che Chekhov ha creato. Dopo gli studi all'Università Cattolica di Milano, in cui ho approfondito la conoscenza dell'opera letteraria di Chekhov, come è stato appena detto, ho frequentato il Guitis, Accademia di Arte Drammatica di Mosca. E uno dei semestri fu interamente dedicato a Chekhov. È significativo, secondo me, il fatto che sia stato già il quarto semestre, quindi la fine del secondo anno. Adesso, forse adesso capisco perché, ecco, diciamo. I contemporanei rimproveravano alle sue opere teatrali di essere frammentarie, confusionarie, e Chekhov rispondeva. Esigono che ci siano eroi, ma in effetti, nella vita, non è che ogni minuto si spari, ci si impicchi, ci si faccia dichiarazioni d'amore. E non è che ogni minuto si dicano cose intelligenti. Loro soprattutto mangiano, bevono e dicono stupidaggini. Ed ecco, è necessario che questo sia evidente sulla scena. Lasciamo che nella scena tutto sia così complicato e allo stesso semplice come nella vita. La gente pranza, semplicemente pranza, e in quel momento si costruisce la loro felicità e si sgretolano le loro vite. Questa citazione è tratta dalle memorie di Garadiecki. Dunque, la domanda. Se mentre i personaggi bevono il tè e pranzano, si costruisce la loro felicità e si sgretolano i loro destini, significa che dietro ai loro discorsi banali si cela un non detto. Perché questo non detto è l'infa vitale per l'attore che recita i personaggi di Chekhov? Come farlo emergere? E soprattutto, domanda importantissima, che tipo di lavoro deve fare l'attore per recitare Chekhov? Io ho recitato in tanti spettacoli Chekhov. Farò soltanto alcuni esempi. Parlerò, io ho creato uno spettacolo dopo aver finito il Gitis, uno spettacolo che si intitola Le Cinque Sorelle. Avrei voluto recitare questo spettacolo, però sarà per la prossima volta. Spero ci saranno altre occasioni. In questo spettacolo io interpreto cinque personaggi femminili tratti appunto dalle opere di Anton Paolich. I personaggi che io ho scelto sono Charlotte Ivanovna, Nina Zaryecnaia, Lyubov Andrievna Ranierskaya, Sonia e Olga. Desideravo che il pubblico non semplicemente ascoltasse cinque monologhi, seppur bellissimi, scritti benissimo, ma cogliesse un pezzo della vita di quei personaggi, come se nel corso di un'ora il pubblico entrasse in cinque case diverse. Desideravo inoltre appunto che il pubblico potesse distinguere i miei personaggi attraverso dei minimi particolari, ovvero senza tanti cambi di abito, di scenografia. Come il non detto è stato per me fondamentale nella realizzazione del mio intento? Perché è proprio grazie a ciò che si nasconde dietro al non detto che i miei personaggi hanno preso vita? Ecco, farò alcuni esempi. Lyubov Andrievna, protagonista del Giardino dei Ciliegi, come tutti sappiamo, Ranierskaya è vissuta a Parigi negli ultimi cinque anni. Tornata in Russia, non desidera bere il tè, ma vuole bere il caffè. Una delle prime battute, se noi leggiamo il primo atto, è «Vot ce assia vi più kofie?» Ecco, bevo il caffè e ce ne andiamo tutti. Apparentemente una casualità, no? Immaginiamo un attore inizia a leggere Chekhov, legge questa battuta, boh. Si potrebbe pensare che semplicemente preferisca il caffè al tè. Tuttavia, anche in questa banale scelta, secondo la mia analisi, si nasconde un indizio che l'attrice attenta può cogliere ed usare nella costruzione della spina dorsale del personaggio. Per spina dorsale io intendo una cosa che i nostri insegnanti ci dicevano sempre, ovvero la spina personaggia. Perché il personaggio, per essere vivo, per camminare, è come un essere umano, no? Deve avere la spina dorsale. Ma questa spina dorsale si costruisce giorno per giorno, attraverso ogni giorno aggiungendo qualcosa nel periodo di prove, di preparazione. In realtà io credo che sia un lavoro infinito che dura sempre. Ragneskia non beve il tè come tutti, si distingue. Questa scelta potrebbe farci capire che si è ormai abituata alle usanze parigine. Sappiamo che lei ha lasciato la Russia in seguito alla morte prematura ed improvvisa del figlio Grisha. Qui nel fiume ha negato il mio bambino, io me ne sono andata all'estero per sempre, per non tornare mai più, per non vedere mai più questo giardino. A Parigi Ragneskia ha iniziato una nuova vita, o almeno ha tentato di farlo. La semplice e banale abitudine di bere il caffè anziché il tè potrebbe esserne una testimonianza. Chekhov non costringe l'attore ad accentuare questi particolari. Se un'attrice non cogliesse questo aspetto e ne cogliesse per esempio un altro, la pièce si svilupperebbe e avrebbe un senso comunque. E ancora sempre il caffè. Nel primo atto Ragneskia dice Mi sono abituata al caffè, lo bevo di giorni e di notte. Che non detto potrebbe nascondersi dietro a questa battuta? Il fatto che lei beva il caffè di giorni e di notte potrebbe suggerirci che è una donna senza equilibrio, che forse ha perduto la cognizione del tempo. Potrebbe anche rivelarci che il suo cuore è pieno di angoscia appunto per il figlio, per la vendita della tenuta, per le lettere che lei riceve. E chissà, questa leggerezza, la Pachin le dà della donnicciola, Gaieff quando parla di lei dice mia sorella è una donna troppo leggera, no? Questa sua leggerezza forse è solo apparente. Quanto non detto, si nasconde dietro parole così quotidiane, ecco, parole che noi potremmo sentire nella vita di tutti i giorni. Lei sta semplicemente parlando del caffè. Un altro aspetto, un altro non detto di Ranierskaya. Nel terzo atto, Liubov Andrievna dice in quel vostro ristorante poi, così squallido, con quell'orchestrina e le tovaglie che puzzavano di sapone. Ecco, io ogni volta che pronuncio questa frase nel mio spettacolo, cioè proprio, è come una ferita che si apre, perché Ranierskaya accoglie la volgarità nel particolare, nelle piccole cose. Un odore può essere volgare. Ecco, è sempre Ranierskaya che a un certo punto dice chi è che fuma questi sigari, questi sigari puzzolenti. Quindi, noi sappiamo che per Cekov il tema della volgarità, la poschlast, è un argomento serio, sempre presente in tutte le opere, ed è molto significativo che lei dica questa frase. Ranierskaya, sappiamo, è un personaggio che ha toccato il fondo, il cui destino sembra essere ormai segnato. Eppure, queste parole potrebbero suggerirci che in lei è rimasto qualcosa di puro. Nonostante la sua vita sia stata travolta dal peccato, dalle passioni dissolute, da un susseguirsi di errori, non viene mai in meno il suo essere risultato, aristocratico. Tutto in lei vibra in ogni istante. Quanta sofferenza che c'è nel suo animo, com'è sensibile. Ecco, anche queste poche parole così banali ci permettono di creare dei personaggi vivi, veri, complessi, umani, perché la domanda è come recitare Ranierskaya, che è così aristocratica. Basta soltanto stare dritti, avere un costume appunto che denoti la sua ricchezza oppure c'è qualcos'altro. Che educazione ha ricevuto Ranierskaya? Qual è stata la sua vaspitanie? Ecco, durante questo semestre di Cieco, uno dei personaggi che recitai era proprio Ranierskaya e il regista mi costrinse a leggere un libro in cui, costrinse tra virgolette ovviamente, in cui si spiegava come venivano educate le bambine aristocratiche al tempo di Ranierskaya perché questa educazione è presentissima ed è incredibile come noi la cogliamo attraverso dei piccoli particolari. Quando io recito non penso a tutto questo però questa cosa c'è in me, questa cosa rimane e quindi non semplicemente uno dirà c'erano le tovaglie che puzzavano di sapone ma questo ti entra dentro tu ricordi queste cose e il pubblico senza accorgersene forse non tutti però qualcosa resta. Un altro esempio vorrei fare un altro esempio tratto dalle tre sorelle Olga quindi la sorella maggiore delle tre sorelle all'inizio del primo atto Olga professoressa del ginnasio femminile corregge i compiti dell'escolare e indossa un uniforme blu ad una prima lettura Olga sembra una donna austera lontana dalle passioni e dalla spensieratezza percepibili subito nelle sorelle minori infatti viene spesso rappresentata negli spettacoli come una donna inasprita dalle circostanze sfavorevoli della vita una donna insomma per intenderci un po' la zitella ecco non credo che sia un caso che le attrici sognino per lo più di recitare Masha o Irina rimasi molto colpita quando durante il semestre di Chekhov una nostra insegnante ci disse cercate il peccato di Olga per peccato cosa si intende il il suo dramma nascosto la crepa del suo animo l'imperfezione ovvero è davvero tutto così semplice e lineare ovviamente anche questa volta Chekhov non ci ha offerto un personaggio piatto e monodimensionale anche Olga è una sognatrice e il suo animo è ricco di passioni Olga sogna sempre di andare a Mosca infatti nel primo atto è felice come una bambina quando all'arrivo di Versini mi chiede lei è di Mosca? quindi c'è Andrie che dice ah le mie sorelle adesso non le daranno pace ma semplicemente lei non non gli dà pace oppure lei è di Mosca per un attimo è come se respirasse una domanda quasi sussurrata ma che cela un desiderio e un sogno quasi presenti all'inizio del terzo atto Kuligin marito di Mosca le dice quante volte penso se non c'era Mosca avrei sposato te Oliecka chissà forse Kuligin vede in Olga delle qualità che non vede più nella moglie Mosca se Kuligin arriva a vedere questo ci chiediamo se Olga nella vita quotidiana sia semplicemente quella donna severa a cui fa sempre male la testa questa sola battuta diventa dunque oggetto e motivo di spunto per un'attrice si può fare una scelta interpretare semplicemente una severa insegnante di provincia o capire grazie agli indizi che Chekhov stesso ci fornisce i moti segreti del suo animo appunto una piccola parentesi tutti gli attori che hanno parlato io ho notato hanno detto la parola indizi questo è significativo chissà forse in Olga si nascondono delle passioni ancora più profonde di quelle delle sorelle il non detto della battuta di Kuligin lascia spazio alla fantasia all'immaginazione dell'interprete ecco nel mio spettacolo interpretando Olga mi sono più volte chiesta come rendere queste passioni nascoste allora ho immaginato che Olga mentre si trova a casa a correggere i compiti ad un certo punto inizi insomma nel mio spettacolo ad un certo punto Olga inizia a ballare con una giacca fantasticando che sia il marito tanto desiderato no? Dio mio non mi potevi mandare un marito anche un vecchio a un certo punto dirà e inizia a ballare con la giacca ed è felice in quel momento non le fa più male la testa ma appunto la musica si interrompe si ricorda che le gira la testa e appunto i suoi doveri di sorella maggiore e insegnante ritornano un altro brevissimo esempio che vorrei fare è che un altro recito anche Charlotte Charlotte Ivanovna e anche lì ho fatto un grandissimo lavoro perché non capivo come rendere la solitudine di Charlotte no? Yadnadna pasta Yadnadna no? il monologo con cui inizia il secondo atto ed è incredibile perché io per capire come rendere questa solitudine sono ritornata a Chekhov ho riletto non so per l'ennesima volta il giardino di Ciliegi e ho detto Anton Pavlovich mi devi aiutare sei tu che devi dirmi come devo rendere questa solitudine sono sicura che ci sia qualcosa e questa cosa che io avevo letto ma non non ci avevo mai fatto veramente caso che all'inizio del primo atto quando arrivano da Parigi Charlotte Yadnadna tiene in mano un cagnolino ma questo cagnolino io non l'avevo mai visto diciamo nelle rappresentazioni che avevo visto allora ho pensato che Charlotte inizia il monologo tenendo in mano un cane finto è un bastone con un collo di pelliccia ma all'inizio lei parla in tedesco con il cane e quindi per far capire la sua solitudine perché un'altra cosa molto importante è che i personaggi di Chekhov sono reali noi potremmo averli visti nella nostra vita quotidiana e questo si coglie dei particolari poi alla fine appunto l'incantesimo diciamo finisce sì e Charlotte dice beh io sono sola non ho neppure un cane vero con cui parlare sto parlando con un colletto di pelliccia però per me è stato importante il fatto che sia stato proprio Chekhov a suggerirmi cioè come se uno non dovesse inventarsi poi niente no quindi tutto in Chekhov appunto espresso attraverso la concretezza degli oggetti le tovaglie lo scaffale cioè la libreria no la concretezza appunto degli oggetti dei particolari dei movimenti l'attore si può limitare a recitare ciò che è scritto oppure può cercare i segni nascosti che Chekhov ha disseminato ecco è stato già detto non è un caso che proprio le pièce di Chekhov abbiano contribuito così profondamente alla nascita del teatro psicologico ecco Stanislavski comunque è stato già detto non mi soffermerò credo che l'attore prima di interpretare un personaggio checoviano debba trasformarsi in una sorta di psicologo ed investigatore vorrei fare un altro esempio tratto da un altro spettacolo per diversi anni ho interpretato il personaggio di Protopopov al teatro scuola dramatisca Vaiskustva Protopopov con la regia di Dimitri Anatolich Krimaf Protopopov nelle tre sorelle è l'uomo con cui Natascha tradirà Andriei è in realtà un personaggio assente cioè nella lista dei personaggi non sempre c'è non compare sempre non ha battute e non è presente in nessuna scena viene solo nominato il regista Dimitri Anatolich Krimaf ha pensato di rendere vivo quest'uomo presentandolo con un essere strano grottesco quasi indefinibile forse anche per questo ha affidato a me che sono una donna il compito di interpretarlo e anche qui c'è stato appunto il tema del grottesco di cui si è parlato così per me è stato avvincente ricostruire il carattere e la personalità di Protopopov allora Natascha dice di lui Protopopov ma è matto dice Protopopov se faccio un giro con lui in troica che tipi questi uomini poco dopo Pulighin nota Protopopov fuori dalla finestra e meravigliato dice che fa Protopopov qui sotto con la troica chi aspetta e dopo Cebutikin dirà che guardate Natascha fa l'amore con Protopopov ma voi fate i ciechi ve ne state tutti qui in poltrona ciechi e Natascha fa l'amore con Protopopov ecco come interpretare un personaggio che non solo non parla ma insomma viene soltanto nominato allora abbiamo immaginato Protopopov come un volgare signorotto arricchito io ero vestita tutta da uomo tra l'altro avevo una dentiera dorata insomma un uomo un po' prepotente e maleducato che non ha paura di andare a prendere Natascha sotto casa e di farsi scoprire dal marito un uomo senza una grande cultura quindi non c'è da stupirsi se abbia conquistato proprio Natascha poi ci siamo chiesti chissà forse questo signorotto così volgare in fondo si sente escluso dalla società forse desidererebbe solo essere accettato dai Prozorof vorrebbe essere parte della loro famiglia quindi in questo spettacolo la famiglia è riunita disposta in cerchio Protopopov si avvicina si limita saluta ma non riesce a farsi accogliere come se non riuscisse mai ad entrare in questo cerchio per me è stata un'esperienza molto significativa riuscire a costruire un personaggio di cui sappiamo apparentemente così poco questa esperienza ha in me rafforzato l'idea che l'attore non può rappresentare i personaggi di Chekhov che sono appunto così umani da essere infiniti limitandosi a recitare ciò che è scritto ma deve provare a capire cosa si nasconde dietro i particolari della vita quotidiana dietro le battute così apparentemente banali e sussurrate nelle mie interpretazioni accentuo alcuni aspetti ma avrei potuto evidenziarne altri Chekhov mi ha permesso di fare una scelta e di diventare coautrice dei personaggi delle sue piece le scelte da me compiute sono personali e potranno essere simili ma mai uguali uguali a quelle di un'altra attrice per questo motivo gli attori di tutto il mondo non si stancheranno mai di recitare le opere teatrali di Chekhov Chekhov infatti dà all'attore non solo la possibilità di interpretare un ruolo ma è come se gli dicesse con l'ironia che lo contraddistingue ecco stiediti accanto a me crea con me questo destino unico e irripetibile vi ringrazio un'ultima cosa che mi piacerebbe dire un brevissimo aneddoto che io ho avuto modo di conoscere l'attore americano Mark Raffalo e noi abbiamo passato un pranzo a parlare di Chekhov e c'era lui che mi diceva come secondo lui si dovrebbe manifestare l'amore di Sonia per Astroff cioè partendo anche lì da un particolare e quindi anche questo è significativo che i grandissimi attori comunque è solo per fare un esempio no Amano Amano Chekhov non so sono stata con i tempi o ok grazie grazie Irene e apriamo la discussione allora di questa sessione che è stata dedicata abbiamo visto alle messe in scena e alle riscritture anche piuttosto recenti del testo cecoviano in cui mi pare che si possano notare tenendo presente ovviamente anche la sessione mattutina anche il il film ieri di Vinicio Marchioni ci sono due tendenze una è l'attualizzazione del testo cecoviano e l'altra è la metateatralità anche un po' pirandelliana fino a Chekhov che diventa personaggio stesso poi alla fine quindi dunque Cinzia Delotto è la prima manina alzata prego scusate non avevo attivato l'audio dicevo che mi sono precipitata a iscrivermi non per l'ingordigia ma perché devo solo fare una comunicazione e poi purtroppo devo uscire assolutamente per cui volevo farla prima dell'inizio della discussione e precisamente vorrei ricordarvi le due giornate di studio che ci saranno lunedì e martedì prossimi quindi è quasi una continuazione del convegno avevo accennato al primo giorno a Trento all'università di Trento sulla ritraduzione dei classici moderni ecco giornate di studio sulla ritraduzione dei classici moderni Manuel dovrebbe dove sei Manuel? sono qua ho messo il link nella chat del convegno ecco quindi voi all'interno di questo link troverete anche una piccola presentazione di queste due giornate sulle motivazioni i metodi i risultati di questa operazione cioè la ritraduzione il ritradurre i classici ne avevamo parlato il primo giorno di convegno quando si era parlato della rilettura ricordate quando Giulia aveva parlato della rilettura si era parlato anche della ritraduzione come possibile rilettura e poi trovate anche il modo di il programma e anche il modo di eventualmente chi fosse interessato di iscriversi a questa a queste due giornate per cui era questo solo che volevo comunicarvi poi voglio salutare tutti avevo pensato a due cose da dire per ringraziare gli organizzatori poi Claudio Olivieri le ha dette così bene e ha detto esattamente quello che io avevo pensato di dire ma non sarei riuscita a dirlo così l'avevo detto in maniera molto più meno efficace più sbrigativa per cui se Claudia me lo permette mi associo a quello che lei ha detto non solo per i contenuti del convegno per l'organizzazione ma anche per il modo in cui è stato gestito questo mezzo e che è stato veramente una ha creato veramente un convegno in cui la distanza si sentiva poco e anche c'era molta libertà pur nel rigore quindi io vi ringrazio veramente tantissimo soprattutto gli organizzatori e tutti gli altri grazie e arrivederci grazie e Manuel tu hai alzato la mano perché vuoi fare una domanda o volevo fare una domanda a Claudia molto molto veloce grazie anzi per il tuo intervento mi ha colpito molto il modo in cui ti sei ricollegata anche all'intervento del del professor Malcovati perché insomma questa questa figura di Stanislavski che stamattina è stata presentata come una iattura in un certo senso però nel teatro contemporaneo ha anche una funzione positiva quasi per CECO possiamo dire di capro espiatorio prima di tutto Manuel dovrei chiederti se me lo stai chiedendo tu o Anton Pavlovich perché il fatto che tu sia del ecco me lo sta chiedendo Manuel senti io avrei molto da dire ma non lo dirò non vi preoccupate penso esco da questi giorni esco da questa rilettura che ho fatto per preparare queste interventi intervento convinta che davvero ognuno ha diritto al suo CECOF quindi ha diritto lo studioso ha diritto il comparatista ha diritto l'attore ha diritto anche il regista con riduzioni sceniche del tutto alcune le ho viste anche io fantasiose decisamente discutibili il punto in questa pièce non è tanto il fatto del capro ispiatorio secondo me è il fatto che CECOF perdona tutti poi proprio in questa specifica di Bagaiev CECOF comunque tollera resiste e perdona tutti quanti anche quelli un po' da Stanislavski in poi che lo hanno sicuramente martoriato in ordine a questa pièce poi mi è successa una cosa molto interessante è davvero una pièce profetica perché prima di mangiarselo gli attori gli recitano un'accorata lettera che è praticamente uguale a quella che anni dopo sottolineo anni dopo avrebbero scritto gli attori del Gogol quando Siriebrennikaf venne nominato regista dall'alto venne calato scrissero e davvero si volevano mangiare Siriebrennikaf quindi il teatro è anche profetico se vogliamo non so se ho risposto alla sì sì grazie mille Geppina riattiva l'audio mi ero mutata Olga Spacil va a essere spaprosta Olga пожалуйста здравствуйте и у меня вопрос к Валентине Бархунюк из Харькова вот какого характера скажите пожалуйста насколько вишневый сад вот сегодня вообще вот это слово сочинание воспринимается в Харькове как реалия украинской культуры вы это упомянули в вашем докладе но насколько вот например молодежь вообще в быту насколько это воспринимается как именно культурное реалие спасибо за вопрос я действительно упомянула что у нас есть прецедентный автор в украинской литературе и таким автором является Шевченко и у него есть знаменитые садок вишневый полохатый поэтому это знают все и воспринимается и так но я должна сказать что в современном харьковском театральном пространстве пьеса Антона Павловича Вишневый сад очень популярна на сегодня Вишневый сад ставят три театральных в разных театрах от государственных до коммерческих театров поэтому словосочетание Вишневый сад в наших культурных реалиях если оно звучит по-русски оно воспринимается в том числе в чеховском контексте на украинском языке но там же не сада там садок и это немножко разные вещи воспринимается по-разному спасибо если я ответила на ваши вопросы вы ответили вполне спасибо Антон Павлович чем примечательно восприятие наше Антона Павловича я прослушала всех коллег за все эти четыре дня наши авторы и те в 20-30-х годах и сегодня мы его читаем не только в переводах но и в оригинале и поэтому нет трансформации смысла только рецепция непосредственная читающего без посредника который переводит этот текст поэтому в этом плане нам очень повезло и хотя переводы на украинский язык их много но это отдельная тема для исследований и ставится кстати он у нас на харьковских сценах и на русском и на украинском языке спасибо вам большое спасибо и если организаторы позволят у меня есть одно замечание вот по поводу докладов о Джорджу Стреллере было вот утром был доклад и к сожалению я не очень внимательно слушала потому что у меня тут параллельно были еще другие вещи и возможно вы об этом говорили и упоминали о том что была монография издана в шестнадцатом году в бахрушинской стерии вот белый квадрат говорили об этой книге вот если говорили то исправьте меня пожалуйста говорили Джулия по-моему нет но есть Раиса Раскина она наверное ответит да и дело в том что я хотела просто сказать что в Бахрушинском музее был организован отдел по изучению творчества Чехова и возглавлял его и инициировал Виктор Владимирович Гульченко который очень любил Джорджа Стреллера он был инициатором вот этой вот монографии и Виктор Владимирович умер и поэтому я просто хотела его вспомнить добрым словом и сказать что вот это серьезная книга она есть и еще я хотела сказать что Бахрушинский музей он также выпустил ну вы наверное знаете вот целый двухтомник от Лешего к дяде Ване от Лешего к дяде Ване вот и эти книги есть в коллекции Бахрушинского музея и там собраны очень интересные наблюдения все спасибо не знаю не знаю No, 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 no. Vam spasibo, Vam spasibo, Raissa. Vi inserisco, se mi permettete, solo così con un divertissement, con una domanda che è una piccola provocazione a Claudio Olivieri, ringraziandola per la ricchezza delle suggestioni che ci ha offerto generosamente nella sua relazione, piena anche di suggestioni, messaggi subliminali, non esplicitati, ma messi lì a creare la pluriplanarità del suo testo. Il tuo amatissimo teatro Doc ha a suo tempo agito anche questo programma Malciani e Classicov. Chekhov non l'ha mai tacciuto, io sì ce l'ho con questa fissa paradigmatica di un'idea di silenzio, per cui mi viene da chiederti questa domanda funzionale e poi eventualmente se ci hai pensato tu e quale silenzio di Chekhov porteresti in scena. Margherita, grazie, grazie anche per le belle parole. Conosco la pièce e l'attore, Yudnikov, che sta lì in silenzio. Magari tacciamo agli altri che c'è un'opera che in Russia viene allestita nel totale silenzio, si chiama proprio così, in silenzio su un tema prestabilito e paghi anche il biglietto per andarla a vedere. La trovo meravigliosa. Riposante. La trovo la sfida suprema. Riposante e anche un po' imbarazzante perché si vuole stare in silenzio in una maniera più degna. Ma tu che decisione stai tacendo. Esatto. Mi sposto che si sente male, scusate. Dicevo, conosco questa pièce, però io personalmente non l'ho mai vista. Se capisco bene, tu mi chiedi quale opera teatrale porterei in scena in silenzio? Se Chekhov, ti chiedevo, perché questa era proprio un'informazione, se sapevi se Chekhov rientrava in questo programma, ma dai dati che ho io non lo so, non lo conosco. E come provocazione sì, in questa interpretazione ormai così decostruita completamente di Chekhov, secondo te quale Chekhov sarebbe più significativo da condividere in un silenzio esibito? Ok. Allora, no per la prima... La più surreale delle domande. Specialmente per noi due, Margherita, direi. È una ipotesi proprio assolutamente improbabile. Ma la prima domanda è no, perché so che sono un ciclo di silenzi, ma non mi sono mai interessata. Infatti, infatti. Non posso risponderti, non lo so. Seconda domanda, ci ho pensato una frizione di secondo e scelgo Irene Muscarà, capovolgendola. Metterei in silenzio ben tre donne, perché questo sarebbe epico, cioè mettere a tacere tre sorelle. Bellissimo. Che nel caso di Irene sono anche cinque. Però io non sono un regista e quindi è solo una domanda, una risposta provocatoria così come lo è. Ti ringrazio dell'intelligenza della risposta a una domanda assolutamente sciocca, ma responsabile. Grazie ancora. Grazie. Mi escucha? Mi ha sentito? Io proprio хотела rammestire ссылку, se si è possibile, a una книge di Bacruzzi in serie, perché la книge è chiamata «Belый quadrat. Cechoski spettacli Diorgio Stringer». E tutte queste книge sono scrittele in internet. E mi ora mi chiamata Alla Gheorghevna Golovacceva, che è un'esplotente e un'esplotente di questo отделo. E come un'esplotente Alla Gheorghevna mi chiamata un'esplotente. Io volevo spiegare, come si può leggere questa canale, se può leggere in chat, se è possibile. Giulia, è attivata la chat anche. Da, da, per tutti. Quindi, per favorevole. No, allora voi potete. No, bene. Io allora scrivo. Grazie. Grazie a te. Ci sono altre domande? Ci sono altre domande? Ci sono domande? Non vedo mani al centro. Grazie a te. Quindi non so se gli organizzatori vogliono riprendere la parola per, non so, una discussione finale. Questo è quel momento in cui non ci vogliamo lasciare. Sappiamo che non abbiamo l'aperitivo che ci aspetta insieme, come invece faremo. Per cui, in presenza, uno dice, vabbè, ciao, tanto poi. Ma andate. Qui invece, se spegniamo, spegniamo. Allora, no, grazie. Se non ci sono più domande, prendo velocemente la parola io e poi magari la lascio anche ai miei colleghi del comitato organizzatore. Innanzitutto, grazie veramente a tutti i relatori di oggi che veramente ci hanno portato viaggiare, fatto viaggiare ancora ed è stato veramente bello. Insomma, ascoltando tutti ancora meglio abbiamo visto l'architettura del programma e come anche si siano inseriti, collegati tanti tasselli di un mosaico ed è molto bello questo. Volevo dire che rispetto al sono più emozionata ora nelle conclusioni di quanto non lo fossi in apertura. C'è stata una bellissima domanda di Claudia che si è posta cosa farò da domani? Ecco, io ho pensato ma che cosa faremo da domani? Perché nelle ultime settimane con Manuel, Donatella e Giorgia abbiamo avuto un dialogo costante e continuo, no? Allora, ho pensato al finale del racconto Dama Sabacchke, no? I casalos stoicione mnoghe rescegne budnidine i tagdana c'niozzano uva prekrasne gisne però in realtà era chiaro che per arrivare alla fine ci voleva ancora molto e la strada era ancora tutta da spianare quindi insomma in realtà siamo un po' così per scherzare io volevo ringraziare in ordine le nostre tre università che hanno reso possibile queste quattro giornate volevo ringraziare tutto il comitato scientifico e quindi Andrei Dmitrovich Stepanov Maria Baris Dona Plyukhanova e Guido Carpi tutti i moderatori e le moderatrici perché sono state una compagnia veramente cara e confortevole tutti i relatori e le relatrici che ci hanno riempiti anche in questi giorni di messaggi d'affetto e hanno condiviso veramente con grande amicizia sincerità e autenticità questa nostra avventura cecoviana e in ultimo gli abbiamo insomma volevo anche aggiungere questa cosa tra tutte le parole che abbiamo sentito e risentito io direi che Anton Pavlovich cecov lo abbiamo interrogato di nuovo un po' torturato anche come diceva Claudia non lo abbiamo lasciato in pace al contempo ci siamo fatti un sacco di domande e mi sembra che ancora una volta ci insegna e questa entra un po' la mia prospettiva che è sempre anche una prospettiva di traduttrice o appassionata di traduzione che ogni parola ha un peso e che ha però anche tanto peso il non detto e le pause e mi sembra che in questo veramente cecov sia un grande maestro quindi ogni parola ha un peso ogni pausa ha un peso e questo è importantissimo credo nella vita di ogni giorno e a maggior ragione o comunque lo ricollego alla traduzione che è tutto un po' traduzione circolazione di idee e di pensieri ed è venuta fuori anche una formula bellissima questa traduzione come ascolto e anche come vita e quindi ecco saranno tutti spunti ulteriori anche per me di riflessioni ho imparato tantissime cose nuove ho conosciuto scrittori e scrittrici anche attraverso oggi la relazione del collega francesista che vorrò sicuramente leggere quindi un grazie veramente sentito e di cuore a tutti e sono felicissima che compare intanto Maria Gramuico finora trasparente e adesso aspettiamo anche Daniele e Leonetti che sono i nostri due bravissimi interpreti ecco quindi a loro veramente un ringraziamento se dite ci mancherete tantissimo perché anche Daniele e Maria sono entrati proprio nel nostro gruppo e però Daniele sta cercando di dire qualcosa ma in questo momento Manuel forse lo possiamo aiutare sta traducendo è per questo che ok giusto va bene io mi taccio se i colleghi del comitato organizzatore vogliono aggiungere qualcosa e poi forse Maria e Daniele intervenite senza più traduzione facendoci sentire la vostra voce ancora una volta liberamente grazie mille a tutte e a tutti io vorrei ringraziare Giulia per averci coinvolti in questa iniziativa sono passati credo due anni vero Giulia da quando hai lanciato l'invito e insieme a lei anche i colleghi Manuel e Giorgia Rimondi Manuel Boschiero e Giorgia Rimondi dell'Università di Verona gli uffici che ci hanno supportato i vostri uffici insomma tutti coloro che hanno accolto la nostra richiesta di aiuto tutti voi che avete accolto anche gli invito a partecipare e non dimentichiamo che seguiranno gli atti di questo convegno quindi Giulia da domani avremo ancora da fare per questo ho citato il racconto di Chekhov e quella convinzione che la strada altro che riposeremo ok grazie mille Manuel allora io mi unisco i vostri ringraziamenti e vorrei ringraziare davvero tutti i partecipanti e ringraziare voi Giorgia Donatella e soprattutto Giulia che con voi abbiamo condiviso questo percorso e Giulia ha ideato e costruito direi tenacemente questo convegno tra un po' mille difficoltà effettivamente e senza Giulia effettivamente questo convegno non si sarebbe realizzato vorrei ringraziare anche tutto il pubblico e tutti i colleghi che hanno partecipato rendendo vivacizzando rendendo ricche di spunte le nostre discussioni e infine un ultimo ringraziamento agli attori e ai registi che hanno preso parte al nostro convegno perché secondo me è stato importantissimo la loro presenza è stato ha avuto una grande importanza e ci hanno dato un grande esempio di lavoro sul testo cecoviano e di confronto con le opere cecoviane e mi viene in mente che Giulia lunedì citava nel suo intervento Nabokov le sue parole leggere significa rileggere forse potremmo anche rovesciare questo discorso e dire una cosa che potrebbe sembrare ovvia o una tautologia rileggere significa leggere di nuovo o meglio riuscire a farlo e anche superando quelle che sono le incrostazioni di un classico per dirlo con le parole di Tignano si potrebbe dire stracciando la copertina farsi nuovamente lettori per entrare in contatto in dialogo diretto con il testo e la cosa che ha detto Giulia sull'ascolto che è tornata molte volte anche nelle parole di Vinicio Marchioni ieri sera mi è sembrata particolarmente importante l'ascolto del testo l'ascolto del traduttore ma è anche l'ascolto dell'attore e del regista e in fondo anche oggi il professor Marco Vatti ci diceva io traduco con gli attori assieme a loro per loro e quindi è un ascolto comune quello che si realizza e in fondo è stato anche il nostro convegno una sorta di ascolto dell'opera cecoviana ecco un grazie a tutti da parte mia e lascio la parola a Giorgia grazie Emanue e anche io ringrazio tutti i presenti vari dei relatori o anche degli ascoltatori ringrazio Manu Arizonatella e Giulia per l'organizzazione di queste quattro giornate molto intense e molto ricche ma che secondo me sono necessarie per studiare e vedere tutte le varie sfaccettature di una figura così importante come quella di Cepo ringrazio anche gli interpreti che adesso secondo me avranno bisogno di una vacanza veramente hanno fatto un lavorone a Mielicova o a Taganroc li mandiamo per stare un tema e saluto Irene che non vedo da un po' di tempo purtroppo ma ho visto i suoi spettacoli è sempre bravissima ciao Maria Daniele non gli è possibile intervenire sono sul canale attraverso l'altro canale provate con l'altro account e quindi qua sono da Daniele due un attimo devo levare le cuffe è un po' si soffrente direi che magari possiamo stoppare la traduzione un momento per il finale forse sì clue sì l'altro l'altro ouring l'altro 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 Non è così, non è così. 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 Non è così. Non è così, non è così. Bravi, bravi, bravi. Bene, allora ci salutiamo e buona giornata a tutti e grazie ancora. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.